Sono veramente felice perché dopo la pandemia, questo dopo, ci siamo in dentro, in pieno, come vedete. Questo è il primo incontro che facciamo in presenza. Abbiamo avuto dei momenti veramente memorabili di scambio e anche di incontro di tutta la rete che abbiamo dovuto, come sapete, interrompere e quindi questo è un momento veramente importante per tutti noi. Allora, dunque, io adesso ho qui accanto a me le rappresentanze della Regione Lombardia. Abbiamo un messaggio del nostro assessore regionale Stefano Bruno Galli, che verrà letto dalla dottoressa Stefania Tamborini, dirigente al patrimonio, imprese culturali e siti UNESCO della Direzione Generale Autonomia e Cultura della Regione. Abbiamo anche accanto a lei Agostina Lavagnino, che da molti anni ci segue su questo progetto di Toccatì in Regione Lombardia. Agostina, valorizzazione del patrimonio immateriale, dell'archivio di etnografia e storia sociale e degli ecomusei, sempre Direzione Generale Autonomia e Cultura della Regione Lombardia. Ho il grande piacere quindi di dare la parola alla dottoressa Tamborini per un saluto istituzionale della Regione Lombardia a tutti voi. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio moltissimo per questo invito. Come dicevo prima al Presidente, io da pochi mesi sono responsabile di questo ufficio di Regione Lombardia che si occupa di patrimonio culturale, imprese culturali, siti UNESCO e quindi anche di tutte le attività legate alla tutela e alla ricerca sul patrimonio immateriale. Quindi credo sia una bellissima occasione per me per conoscervi, diciamo appunto anche dal vivo, perché come sapete in periodo di pandemia è sempre più difficile trovarsi e conoscerci, incontrarsi anche fisicamente. Quindi passerei a leggervi il saluto che mi ha consegnato l'assessore Galli, che come sapete è un professore universitario di storia e quindi è estremamente sensibile, attento a questi temi e al tipo di attività che voi portate avanti con estrema dedizione. Quindi vi leggo il messaggio dell'assessore. Mi rincresce non poter partecipare ai lavori di questa bella giornata di ascolto, che gode del contributo di Regione Lombardia, della viva e preziosa testimonianza delle dodici comunità protagoniste del progetto a salvaguardia del patrimonio ludico lombardo. Nel salutare tutti i presenti affido queste poche righe alla lettura della dottoressa Stefania Tamborini e alla dottoressa Agostina Lavagnino, che guida da tempo il prezioso archivio di etnografia e storia sociale. E naturalmente ringrazio anche il presidente dell'associazione Giochi Antichi, ringraziandolo per l'invito, Giorgio Paolo Avigo. La tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio immateriale delle nostre comunità territoriali è una missione nobile e doverosa, che Regione Lombardia sostiene con convinzione nel concreto, nella consapevolezza della fragilità di un così importante patrimonio. Le plurime eredità culturali immateriali sono parte integrante delle radici e dell'identità delle nostre comunità. Tuttavia, per la loro natura intrinseca, sono ancora più delicate e vulnerabili dei manufatti umani. Conservare e tramandare questi saperi tradizionali è pertanto un'impresa necessaria, perché in essi, anche quando si parla di attività ludiche, sono distillati i tratti preziosi del nostro comune senso di appartenenza. I lavori di oggi sono dedicati in particolare a una ricognizione su come queste comunità dedicate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ludico e identitario regionale abbiano saputo fronteggiare le severe limitazioni della socialità imposte dalle restrizioni rese necessarie dall'emergenza pandemica. E sono convinto che queste comunità, autentiche gemme di saperi invisibili del nostro passato, abbiano contribuito e continueranno a farlo a linire le ferite della società disgregata dall'emergenza sanitaria. Il patrimonio ludico di tradizione è un sapere che appartiene a ciascuno di noi e attraversa le generazioni. Un saper giocare che ancora oggi può offrire sorprendenti occasioni di autentico divertimento e di conoscenza del nostro passato. Un sapere che anche attraverso il gioco testimonia quella che il grande Carlo Cattaneo, vero padre nobile della nostra regione, chiamava la Lombardia plurale. Se non vado errato, la stessa associazione giochi antichi, che il prossimo anno festeggia vent'anni dalla sua costituzione, è nata a Verona da un gruppo di giocatori appassionati del gioco dello scianco, come è chiamato nel Veneto, anzi nel veronese, il famoso gioco della lippa. E quanti nomi può avere un gioco? Solo in Lombardia ritroviamo la lippa come Ciancol nel Mantovano, che diventa Ciancol nel Bresciano e nella Bergamasca. Si trasforma in Rella a Milano per tornare Ciancol sull'Ario, riconvertirsi in Ciaramela o lippa nel Pavese. Questa giostra di nomi è solo un esempio di quanto la nostra grande Lombardia sia una regione da leggere al plurale, nella quale le identità culturali e territoriali si somigliano e differiscono per formare quello straordinario e unico mosaico che si chiama Spirito Lombardo e che io amo chiamare Lombardismo. Quindi questa è la salute dell'assessore. Allora questo messaggio dell'assessore è veramente straordinario direi e va anche al di là di quello che ci aspettavamo per la sensibilità che mostra al valore di questo patrimonio che effettivamente è un patrimonio particolarmente invisibile rispetto ad altri, poco studiato dalle istituzioni, dalla comunità scientifica, poco riconosciuto come tale, anche perché un po' schiacciato dalla grande visibilità dello sport, con la S maiuscola. Non sappiamo quanto invece l'approccio che AGA sta sviluppando e sta contribuendo a portare proprio anche a livello nazionale è proprio legato all'appartenenza culturale, alla diversità culturale dei territori, al fatto che ci siano modi e maniere di giocare che non rientrano in uno spirito competitivo, agonistico, ma sono invece legate, come si diceva con alcuni di voi adesso all'ingresso, proprio al piacere di stare insieme all'importanza del patrimonio culturale locale, alla trasmissione delle tradizioni che dal passato vanno a vivificare i rapporti con le future generazioni. E quindi abbiamo veramente un compito importante, l'Associazione Giochi Antichi sta insegnando davvero anche a noi, a noi diciamo comunità scientifica, antropologica, storica, quanto tutto questo necessita impegno per essere trasmesso e anche una grande creatività. Quindi quello che adesso oggi andiamo a esplorare insieme sono anche i risultati di un impegno che la Regione ha messo nel sostenere questo lavoro di rete, questo lavoro di ricerca che stiamo portando avanti insieme, che è davvero preziosissimo. Io mi sento di rappresentare un po' anche l'Unescola, l'organismo sovranazionale che ha determinato e sta determinando grandi cambiamenti nelle politiche culturali, permettendo di andare oltre, come ci dice l'assessore, oltre il monumentale, quello che sono i siti, i luoghi per, come dire, aprirsi alle pratiche sociali che sono davvero fragili, perché sappiamo quanto tutti noi sappiamo quanto questi gruppi che sono sul terreno a portare avanti queste tradizioni si stanno anche battendo con ostacoli continui, perché la società evolve e queste tradizioni hanno bisogno di essere riconosciute e di essere in qualche modo protette, conosciute e salvaguardate. E su questo tema della salvaguardia poi andremo avanti. Io adesso lascerei la parola ad Agostino Lavagnino. Diciamo che l'archivio di etnografia e storia sociale è un'eccellenza a livello nazionale e vi spiego perché. Quest'archivio è stato il primo ente che da un lavoro di studio e ricerca sulle culture popolari si è aperto, attraverso appunto la Convenzione UNESCO e quindi delle leggi regionali di cui Agostino vi parlerà, si è aperto proprio al lavoro con le comunità. Quindi è un lavoro forte che cambia anche il nostro modo di lavorare, e quando dico nostro penso all'antropologia, le scienze dell'uomo e mi permette di evolvere davvero, di far evolvere queste competenze in un lavoro molto più dedicato, dedicato a voi che siete qui ad ascoltarci stamattina. Questa è una cosa che non accade in altre regioni italiane e considerate che il patrimonio di giochi e sport tradizionali che voi rappresentate qui per Regione Lombardia non ha ad oggi un altro spazio di espressione oltre al di fuori di quello che è appunto la piattaforma Intangible Search, quindi un inventario regionale. Non abbiamo a livello nazionale ancora sviluppato ricerche con un luogo anche concreto come quello appunto della piattaforma sulla quale stiamo caricando schede e materiali che vengono dai vostri terreni. Quindi siete diciamo un po' in qualche modo anche il terreno privilegiato di sperimentazione in cui davvero i giochi e sport tradizionali hanno modo di esprimersi e di venire riconosciuti anche a livello poi nazionale e internazionale. Abbiamo anche in corso una candidatura UNESCO che riunisce la rete italiana delle comunità ludiche tradizionali e che ci porterà a lavorare rafforzare sempre di più il nostro lavoro insieme nei prossimi anni. Regione Lombardia fa parte di questa rete sia come regione che come comunità che rappresentano la ludodiversità, quella che emerge dalle parole dell'assessore la diversità ludica, la diversità culturale delle nostre regioni. Grazie Agostina Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio la mia dirigente, la dottoressa Tamborini e Valentina Zingari e la dottoressa Zingari per questa introduzione. Ripercorro brevemente quello che in effetti è successo in regione Lombardia dagli anni 70, cioè la nascita all'interno della regione di un archivio già in quegli anni ha permesso effettivamente con la ricerca etnografica, antropologica, così come allora veniva condotta sui territori, di avere la possibilità di conoscere effettivamente le realtà territoriali di regione Lombardia che si occupavano ovviamente di temi legati alla tradizione, così come allora veniva definito tutto quanto legato al contesto tradizionale etnografico regionale. È chiaro che nel tempo i beni demo-etno-antropologici, così come allora venivano definiti, sono stati con la Convenzione Unesco del 2003, riconosciuti a livello internazionale come patrimonio culturale immateriale. Questo passaggio di, come dire, non solo definizione ma anche di contenuti metodologici ha permesso le competenze interne a regione Lombardia di muoversi verso le nuove direzioni che la metodologia Unesco con la Convenzione del 2003 ci spingeva in qualche modo a riconoscere e soprattutto a assumersi come responsabilità di lavoro. Abbiamo due grossi strumenti che appunto ci hanno concesso di muoverci in questa direzione. Come ha sottolineato Valentina Zingari, proprio per la conoscenza interna a regione, con la ratifica della Convenzione Unesco del 2003 a livello italiano, anche Regione Lombardia si è dotata di una legge per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale ed è la legge 27 del 2008. La prima legge a livello regionale italiano che ha consentito dunque a livello istituzionale di dare valore a questi nuovi concetti importantissimi che non solo hanno trasformato a livello legislativo, amministrativo i contenuti ma anche a livello metodologico. Questo perché? Perché l'attenzione si spostava dall'antropologo, dall'etnografo al valore delle comunità e questo secondo me è il grosso salto rivoluzionario che la Convenzione Unesco del 2003 ha portato. Il fatto che Regione Lombardia si fosse dotata di una legge che poi con la nuova legge del 2016, la 25, ha comunque mantenuto l'importanza di questi concetti in due articoli, il 13 e il 22, che quindi sono riferiti in particolare al patrimonio culturale immateriale, hanno consentito Regione di aprire una stagione anche di bandi e di avvisi dedicati a queste tematiche. È lì che è nata la volontà di creare un inventario regionale. Non tanto perché pensavamo ai riconoscimenti delle liste Unesco, ma allora secondo me la grossa intuizione fu proprio questa, la necessità di dare spazio attraverso un inventario regionale al racconto delle comunità, adeguandoci chiaramente a quanto la Convenzione Unesco ci diceva. Allora, quel racconto che ora è in parte all'interno dell'inventario Intangible Search, che ovviamente conoscete e che si sta popolando anche delle comunità di gioco tradizionali di Regione Lombardia, ha proprio questo valore, una mappatura degli elementi importanti legati alle comunità di Regione Lombardia. Ed è con voi, è con l'Associazione Aga, che abbiamo iniziato questo percorso, in questi ultimi anni, di mappature, di riconoscimento delle comunità del gioco tradizionale di Regione Lombardia. Un ambito, ad esempio questo, che all'interno di Regione non era mai stato prima affrontato. Quindi abbiamo anche noi, con questi progetti e con il vostro lavoro di ricerca, imparato a conoscere e a riconoscere le comunità ludiche lombarde. Questo è molto importante, perché 12 comunità ludiche che appartengono quindi al territorio di Regione Lombardia, di cui noi non avevamo conoscenza. E questo per me è fondamentale. Da qui è poi partito tutto il lavoro, che non finirà sicuramente con l'incontro di oggi, anzi, le aspettative sono proprio quelle di aprire la ricerca anche verso, spero, il lavoro che per il programma Tocca T si sta facendo per il riconoscimento all'interno del registro delle buone pratiche. Riprendo un termine che ha utilizzato il nostro assessore, che mi è piaciuto molto, la pluralità. E lui l'ha usata parlando di pluralità linguistica, no? Quindi ogni gioco, a seconda delle aree territoriali, può cambiare nome. Ma cambiano anche, a volte, questo lo sapete voi e forse ce lo racconterete anche oggi, i tratti o piccoli tratti di realizzazione del gioco stesso, no? Perché ci sono delle varianti interessantissime tra lo scianco e la lippa pavese, per esempio, oppure tra altri giochi che oggi impareremo a conoscere più nel dettaglio. E poi l'altro termine che mi è piaciuto del discorso del nostro assessore, la necessità di non disgregarsi, no? Durante il tempo di pandemia. Ma il fare rete è proprio la base, la necessità delle comunità territoriali e nel programma Toccatì, lo vediamo annualmente, cioè il fare rete si allarga a tutte le regioni italiane, si allarga a livello internazionale. Questa, secondo me, è la cosa straordinaria del mettere in rete le comunità, in questo caso ovviamente le comunità, le comunità ludiche. Il fare rete non si è perso, non è venuto meno durante il periodo pandemico e questo grazie al vostro lavoro, alla costanza di mantenere vivo il rapporto con le comunità territoriali e oggi scopriremo anche con quale metodo e in che modo. Quindi siamo noi adesso che ci mettiamo in ascolto perché abbiamo bisogno di capire tutto quanto è stato fatto in un periodo per tutti molto difficile. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti per l'invito e una buona giornata a tutti di confronto e conoscenza reciproco. Grazie. Grazie mille. Adesso chiedo, grazie mille alle nostre istituzioni che sono gli interlocutori fondamentali del nostro lavoro, delle istituzioni che non sono distanti dentro degli uffici irraggiungibili come a volte si pensa o accade, ma sono molto vicine attraverso degli strumenti appunto come ci diceva Agostina, come questo registro, questi bandi che davvero avvicinano moltissimo le istituzioni alle comunità, alla vita quotidiana di tutti noi, dei nostri paesi e quindi abbiamo un po' anche la responsabilità di rafforzare questa vicinanza. Come diceva Agostina, il lavoro di ricerca ma anche il lavoro di relazione che abbiamo sviluppato in questi anni insieme adesso deve svilupparsi negli anni a venire in un rapporto sempre più stretto di dialogo con voi, con i territori, con i bisogni dei territori. Quindi questa giornata sarà anche dedicata proprio a mettere a fuoco quelle che sono quelle che sono state le esperienze della pandemia e i bisogni che emergono dai terreni. Io adesso chiedo al presidente di Associazione Giochi Antichi e al vicepresidente Giuseppe Giacom di venire a sedersi qui. Devo portare i saluti del presidente dell'Unione Nazionale del Proloco. Dovete sapere che le proloco, che tutti voi insomma conoscete bene perché sono una realtà molto forte, presente sui territori, sono spesso interlocutori fondamentali per noi nel lavoro che andiamo a condurre. L'Unione Nazionale del Proloco è stata una delle prime associazioni non governative che ha richiesto l'accreditamento presso la Convenzione UNESCO per il patrimonio immateriale, di cui anche abbiamo parlato fino ad ora. Quindi l'Unione Nazionale è parte della nostra rete di candidatura, quindi abbiamo le scuse del presidente Segalini, ma verrà a rappresentarlo ed è un po' in ritardo, se ne scusa la dottoressa Maura, io non mi ricordo mai il cognome. Ecco, certi serbelloni, è un po' complicato che sta arrivando. Abbiamo messo nel nostro programma di lavoro anche continuare a conoscere questa diversità, continuare a raccogliere informazioni, a identificare altre comunità e questo è un lavoro che vi inviteremo a fare insieme a noi. Perché è vero che la diversità di queste pratiche è un patrimonio preziosissimo, come la diversità biologica per il patrimonio naturale, così per le nostre convenzioni questa diversità è davvero qualcosa che non possiamo perdere nell'indifferenza. Quindi sia l'Unione Nazionale del Proloco che l'Associazione Giochi Antichi sono impegnate insieme in questo grande cantiere. Allora, non ho bisogno di presentarvi, perché tutti voi lo conoscete, il Presidente di Associazione Giochi Antichi, che come ci diceva l'Assessore, nasce dalla passione di un gruppo di giocatori di Scianco, questa grande avventura che oggi ci porta fino a qui. Lascio la parola a Giorgio Paolo Avico, Presidente dell'Associazione Giochi Antichi. Per i saluti. Buongiorno a tutti. Saluto anche Moreno Bolzoni, che è arrivato in questo momento. La ceramela di Mede, in ritardo ma presente. Sì, saluto solo Bolzoni, solo Bolzoni, perché le persone che meritano essere salutate devono essere salutate. Allora, vi ringrazio per essere qui oggi. Per noi è molto importante la vostra presenza. So che non è stato facile per molti di voi. Hanno dovuto anche spostare appuntamenti di lavoro. Ci rendiamo conto delle difficoltà del momento, in parte dovute proprio alla situazione pandemica, che stiamo ancora purtroppo vivendo. E quindi un ringraziamento ancora più sincero, vero, insomma, nei vostri confronti è assolutamente doveroso. Ringrazio la dottoressa Tamborini per per la presenza e la dottoressa Lavagnino, che ormai conosciamo, ci accompagna dall'inizio di questo progetto ed è persona importante per quanto ci riguarda proprio per il proseguimento dello stesso. Quindi, anche io sono stato un po' colpito dalle parole dell'assessore, anche perché come giocatore di scianco, quando si nomina questa attività, insomma, subito mi era vivo, mi era vivo. Ed è vero quello che dice rispetto alle peculiarità che ogni... ma non è caratteristica dello scianco, è caratteristica proprio del gioco e dello sport tradizionale, quello di, nel radicarsi sul proprio territorio, di assumere particolarità leggermente diverse, pur mantenendo regole di fondo molto simili. E questo fa parte proprio della natura, del locale, insomma, considerare proprio quello che magari a pochi chilometri di distanza viene comunque praticato con piccole differenze e con nomi diversi. Questo, come dico, è la natura della pratica tradizionale. Noi qui più volte abbiamo parlato di dodici pratiche, dodici attività, dodici organizzazioni, che sono le più varie, perché vedo qui sono... andiamo dalle federazioni sportive, alle associazioni culturali, alle associazioni che sono legate a cooperative sociali. Quindi tutto questo è chiuso nella modalità, nella pratica che si ha quotidianamente sul proprio territorio. e quindi parlando di organizzazioni, sappiamo benissimo che noi parliamo di dodici realtà che siamo andati a scoprire o in dialogo, siamo in dialogo, ma non sono assolutamente le uniche, perché il gioco del tamburello si gioca a Dossena, ma si gioca anche in altri punti, in altri posti. e così, così come il gioco del tamburello, anche altre operazioni vengono fatte in altre situazioni. Quindi non è assolutamente una ricerca chiusa, questo voglio dire, ecco, perlomeno per quanto riguarda la nostra associazione. nostra associazione che, come detto dall'assessore, non è lombarda, ha una rete che arriva non solo in Lombardia, anche in altre regioni, ma è proprio per spiegare un attimo il lavoro dell'associazione, per fare un escursus, un piccolo escursus di quello che è l'associazione Giochi Antichi, do adesso la parola a Giuseppe Giacon, vicepresidente dell'associazione. Sì, non applaudito, perché dopo parlo ancora. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Ma, velocemente, l'associazione in realtà parte proprio da essere giocatore, l'ha detto, l'ha ricordato addirittura, insomma, anche nelle parole, insomma, della dedica dell'assessore al movimento della Lippa. E lo sforzo che abbiamo fatto fin da subito, l'interesse, la curiosità, era stato quello di non restare all'interno di questo ambito. E quindi di andare a scoprire le realtà partendo dalla Ceramella, che poi è stato il primo, diciamo, fuori dalle mura di Verona, come si direbbe, viaggio che abbiamo fatto. Boccalari, Boccalari, attento. E quindi con il buon Boccalari e con Moreno ci siamo incontrati, con tutta la, diciamo, la comunità di Mede. E quindi c'è una, come dire, c'è anche un percorso lungo con la Lombardia. Noi nasciamo, da questo punto di vista richiamo il termine Lombardo-Veneto, non per nostalgia, ma perché è stato proprio un film immediato. In realtà la curiosità che ci ha spinto, e poi abbiamo capito che il nostro è un lavoro di approccio antropologico, è stato quello di vedere come giocavano gli altri, al di là del gioco che portavano avanti, del gioco e dello sport. Perché ci interessava tantissimo capire come questo mondo poteva essere in qualche maniera ancora trasmesso. Dal punto di vista del giocatore, della giocatrice, cioè partendo proprio da questo, non da un punto di vista di percorso storico, di analisi storica del gioco, ma proprio ancora come il gioco potesse raccontare un pezzo di vita di un territorio. E ricordo che anche qui, sempre per un legame con la Lombardia, una delle primissime comunità che abbiamo trovato, che oggi è qui, è il Pirlì, quindi dalla Val Cavallina, dalla Bergamasca. Il legame quindi con la Lombardia è sempre stato molto forte. Noi abbiamo pensato da quegli inizi di costruire un festival, che è stato poi quello che conoscete tutti, che è un festival che non è, noi non siamo organizzatori di eventi, per cui non è che abbiamo pensato di organizzare più eventi legati ai giochi e sport tradizionali. Facciamo quello perché per noi era un incontro, la costruzione di una rete, che in quel momento si manifestava all'interno di una città come Verona, recuperando gli spazi anche pubblici. Quindi c'era anche una logica di recupero, diciamo, della convivenza, della relazione attraverso il gioco. Abbiamo pensato di fare un viaggio nell'Italia che gioca. Abbiamo anche fatto un'edizione su questo. Alcuni di voi sono anche citati all'interno di questa pubblicazione. E lì abbiamo cominciato, su questo lavoro, a capire anche che era necessario sempre più farci supportare, ragionare, riflettere con la comunità scientifica. L'associazione è un'associazione di cittadini e cittadine normalissima, cioè qualsiasi associazione culturale. Non ha mai avuto una vocazione, diciamo, scientifica, nel senso che non è nata da un gruppo scientifico. E questo ha fatto sì che però, a un certo punto, abbiamo sentito proprio la necessità di confrontarci. Ecco l'incontro con la professoressa Lapicirella Zingari, con Valentina, e con un mondo anche molto, diciamo, in qualche maniera, sul tema della ricerca, sul tema della trasmissione, che era già all'interno del nostro percorso. Quindi come poter trasmettere alle nuove generazioni, perché è uno dei temi, poi lo vedremo, insomma, uno dei temi importanti, dei bisogni principali che tutti noi viviamo. Quello di portare avanti la nostra tradizione e territorio. Quindi da questo punto di vista qui, l'opportunità, e questo ringraziamo l'archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia, perché è stata, con l'inizio di questo percorso, la prima volta che siamo riusciti a mettere insieme il mondo dei giocatori e delle giocatrici, cioè le comunità, il mondo del volontariato, i professionisti, la comunità scientifica e le professionalità che nel frattempo, Aga, in vent'anni di storia, qualcuno l'ha ricordato, ha cresciuto all'interno, poi ne sentiremo anche qualcuno presentarci il lavoro, e metterle insieme, lavorarle per la prima volta su una metodologia scientifica. Quindi c'è un lavoro insieme a voi, partendo ognuno dal proprio piccolo territorio di dimensione, diciamo, abitativa, dico, territorio o estensione geografica, ma di grande ricchezza dal punto di vista del lavoro, metterlo insieme per vedere se riusciamo a costruire un modello che possa essere poi replicabile anche oltre. Questo per noi è una cosa straordinaria. Non a caso l'abbiamo fatto con chi per primo in Italia, o tra i primi, adesso non vorrei dire un'inesattezza dal punto di vista, si è dotato di una legge, perché sappiamo che sono due le regioni che hanno le leggi, una è la Sicilia, però se non dico delle cose errate, voi siete, non so se i primi o i secondi, ok? Ma poco importa la classifica. Quindi, da questo punto di vista, per noi è un terreno importantissimo. È un terreno perché è un lavoro proprio di lavoro etnografico e che ha fatto capire anche noi, da giocatori e giocatrici, e questo lo dico soprattutto, diciamo, alle comunità, come il mondo scientifico non è qualcosa, un po' come le istituzioni, a volte i cittadini le vedono là, distanti, lontane. No, abbiamo scoperto noi per primi, con le nostre perplessità, che nel viaggio, invece, è un mondo cui ci si può dialogare, si può trovare ovviamente anche una forma di collaborazione forte, concreta, e queste sono le testimonianze. Penso che le persone che hanno parlato prima, l'avete capito, si capisce subito da come ti raccontano, insomma, quanto possono essere vicini a dei progetti. E ricordo che il progetto in gioco, quindi ha proprio come sua vocazione, quella della sperimentazione, cioè di essere un cantiere, un laboratorio sperimentale, e penso che mai, come in questo momento, gioco forza lo è stato. Cioè noi siamo partiti con un progetto in una condizione cosiddetta di normalità, e ci siamo dovuti affrontare la pandemia. E su questo mi piacerebbe che, proprio Paolo, che più di tutti ha seguito voi, le comunità da vicino, in un dialogo che fosse, diciamo, online, telefonico, piuttosto che di presenza, perché anche durante la pandemia, comunque, sono state delle attività di presenza, raccontasse un po' questa esperienza. Grazie. Sì. Qualche minuto, poi darò la parola alla dottoressa, la vicerella Zingari, per proseguire. No, è stato, ovviamente interessantissimo, la relazione con voi, con i vostri problemi, con il vostro percorso quotidiano, che fate per portare avanti la vostra pratica, a volte con molta fatica, e a questo si è aggiunto in l'anno scorso, appunto, in particolare, la situazione pandemica che tutti conosciamo. C'è stata una grossa differenza tra il primo anno, dove alcuni di voi hanno partecipato alla prima parte di questo progetto, e il secondo anno l'anno scorso con la pandemia, dove ci siamo trovati a non poter uscire di casa, a non entrare in dialogo aperto con voi e abbiamo trovato situazioni, modalità diverse. e la prima modalità che abbiamo chiesto, il primo sforzo che abbiamo chiesto a voi è stato quello di fare dell'autodocumentazione, cosa che molte volte, anzi, più delle volte, non vi eravate trovati a fare. E dirò che l'esperimento è un esperimento molto ben riuscito, i prodotti che sono e che in parte vedremo anche oggi, oggi vedremo una piccola sintesi delle quattro realtà su cui abbiamo lavorato l'anno scorso. È stato un prodotto appunto molto ben riuscito di autodocumentazione, questo ho detto non da me ma dall'antropologa la piccerella Zingari, quindi non sono certo io a dire queste cose. Ed è stata una crescita importante per la nostra associazione perché la nostra associazione stessa ovviamente è stata colpita dalla pandemia o un festival come quello del 2020 che è stato fatto praticamente in streaming nelle nelle peculiarità più importanti. E quindi io dico che in questo caso ha fatto maturare in tutti noi la possibilità di poter lavorare con modalità diverse da quelle abituali. Ovviamente quelle abituali sono sempre auspicabili vogliamo ritornare alla normalità ma sappiamo che ci sono anche delle modalità diverse per trasmettere la nostra pratica il nostro sapere e le nostre i nostri giochi e le nostre attività. Io penso che questo sia il risultato maggiore che dobbiamo trarre da questa situazione da cui facciamo effettivamente molto fatica ad uscire. Io darei la parola adesso a Valentina alla dottoressa la piccerella Zingari per il proseguimento magari noi possiamo anche andare. Grazie. Grazie mille. Queste sono le voci di Paolo e di Giuseppe sono in qualche modo anche un po' delle voci che ci guidano da anni in un percorso di crescita davvero importante. Vorrei salutare Maura della Unione Nazionale Proloco che è appena entrata in sala e anche chiederle di venire a dire per un breve saluto dell'Unione Nazionale Proloco che oggi rappresenta e come vi dicevamo il lavoro continua su più fronti uno di questi appunto è la mappatura la scoperta prego Maura di nuove comunità e proprio per significare l'impegno dell'Unione Nazionale noi abbiamo un dialogo molto forte con Gabriele Desiderio che è a Roma e che insomma diciamo coordina e da anni ci ritroviamo a livello internazionale a tutte le sempre molto vicini abbiamo creato una rete una rete italiana delle associazioni non governative accreditate per l'UNESCO l'Unione Nazionale del Proloco fa parte anzi è capofila di questa rete quindi ho il piacere giusto due minuti Maura prima di iniziare grazie grazie Valentina scusate per il ritardo dovuto a un stravolgimento familiare che non ho potuto evitare sicuramente grazie per l'ospitalità grazie per questo invito e per questa opportunità come diceva Valentina l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia è molto impegnato ormai da anni in generale sui temi del patrimonio immateriale e in particolare sui temi del gioco tradizionale delle comunità ludiche il comitato regionale che rappresenta oltre 600 Proloco lombarde si è messo un po' in scia da alcuni anni e quindi vi porto anche il saluto del presidente Segalini che oggi è a Bergamo per un impegno istituzionale che era già stato fissato e che rinnova sicuramente l'impegno anche del comitato regionale lombardo per portare avanti iniziative cerche e iniziative soprattutto di partecipazione e di vicinanza sui temi del patrimonio culturale e materiale in generale e del gioco in particolare grazie grazie mille Mauro allora è stato un periodo davvero particolare quello che stiamo vivendo è stato ma lo è ancora e io vorrei dire che in questo periodo di pandemia su cui oggi tutti insieme siamo qui riuniti anche per riflettere perché sappiamo quanto i rischi che le associazioni corrono anche le minacce come sono presenti particolarmente evidenti in questi periodi ecco vorrei dirvi vorrei aprire un po' una riflessione sul fatto che una ricerca come quella che abbiamo condotto insieme che è fatta di diversi diciamo ingredienti molto innovativa perché non è la ricerca classica del ricercatore che va sul terreno ma è una ricerca che si fa tra associazioni culturali che sono anche in qualche modo già legati fra loro da attività da passioni comuni a cui il ricercatore partecipa sostiene che guida che orienta ma fondamentalmente come dire favorisce la cura di queste relazioni è una ricerca davvero di natura diversa e questa convenzione per la salvaguarda del patrimonio culturale immateriale che come abbiamo sentito dalle parole dell'assessore dalle parole di Agostino Lavagnino e anche di Giorgio Paolo Avigo e di Giuseppe Giacon ha come dire fornito degli strumenti nuovi diversi e questi strumenti nuovi sono concretamente visibili nel lavoro che abbiamo fatto insieme quali sono gli ingredienti di questo lavoro prima di tutto appunto la relazione la cura delle relazioni fra associazioni che rappresentano pezzi di cultura e che spesso da soli isolati nei loro contesti non riescono a prendere piena consapevolezza di questo valore quindi questo lavoro di ricerca andare sul terreno incontrarsi parlare non soltanto produrre documentazione cosa importantissima che abbiamo fatto tutti insieme ma anche suscitare proprio una consapevolezza dell'importanza del vostro gioco nei vostri territori ma non soltanto per i vostri territori ma per l'umanità intera è stato un lavoro basato radicato su relazioni forti capacità di relazione che l'associazione giochi antichi ha portato come patrimonio a questo lavoro di ricerca la come dire la consapevolezza anche che il vero patrimonio il patrimonio più importante che abbiamo da trasmettere alle future generazioni non è fatto di oggetti non è fatto di come dire emergenze archeologiche storico-artistiche staccate dal tessuto sociale ma è fatto prima di tutto dai protagonisti che sono gli attori i soggetti quindi è un patrimonio vivo allora il tema del patrimonio vivo non lo dobbiamo dare per scontato perché fino ad oggi il nostro sistema dei beni culturali come sappiamo è andato a riconoscere beni culturali in qualche modo eredità del passato ma anche come dire categorizzati e catalogati come oggetti tutti i legami che questi beni anche esprimono con le comunità d'appartenenza sono molto difficili da mettere a fuoco e questa convenzione cosa ci ha fatto e parlo anche di noi noi ricercatori ci ha spronato a lavorare sulle funzioni sociali del patrimonio e questo è un cambiamento importantissimo di prospettiva perché che tipo di ricerca andiamo noi a fare insieme a voi sui territori noi non andiamo soltanto a fare una ricerca storica una ricerca sul passato di quel gioco ma andiamo a lavorare sulla comunità e il senso culturale e sociale che quell'attività ha per la comunità stessa e quindi io credo che poi lo sentiremo anche dalle vostre testimonianze che voglio solo aprire adesso alla visione dei documenti dei materiali che abbiamo condiviso in questi mesi cosa è successo durante il periodo di pandemia noi eravamo già pronti a partire come abbiamo fatto per le prime otto comunità con un camioncino proprio fuori da casa colombare a casa colombare con tutti i materiali e soprattutto la squadra che voglio qui presentare la squadra di lavoro formata da rappresentanti dell'associazione quindi volontari i professionisti la dottoressa Sofia Scomparin che è veramente insomma una direi pilastro di tutto il lavoro che adesso andremo anche a presentare durante questa giornata e che lavora per AGA per l'associazione giochi antichi ormai da anni è dottoressa in filosofia e lavora insomma si sta formando tantissimo insieme a noi sui temi del patrimonio immateriale e quindi abbiamo anche insomma stiamo veramente lavorando tutti insieme in un processo di formazione e autoformazione la dottoressa Barbara Rigon che ci sta fotografando anche stamattina che è la nostra fotografa videomaker come si dice adesso e che cura la documentazione audiovisiva del progetto e abbiamo avuto con noi Gianmarco Pacione che tutti avete conosciuto laureato in antropologia a Verona che adesso è preso da nuovi impegni professionali ma ha accompagnato l'associazione per un pezzo di cammino e Lorenzo carcereri in fondo che si occupa di tanti aspetti operativi di organizzazione dell'associazione è molto importante che in questo gruppo di lavoro vedete ci sono anche le diverse generazioni ci sono i giovani che si stanno formando i giovani che possono facilmente dialogare anche con i più giovani che abbiamo incontrato sui terreni e quindi è molto importante che anche la composizione di questo gruppo uomini donne diverse generazioni venga in qualche modo messa a valore perché è quello che poi va anche a determinare quello che sono i risultati della ricerca che non sono soltanto documenti insisto a dire ma sono prospettive comuni che noi stiamo costruendo e per questo motivo uno dei temi forti importanti è il tema della cooperazione di come costruire processi di cooperazione ed è quello che stiamo facendo non è affatto scontato non è affatto scontato Giorgio Paolo Avigo ha fatto presente anche le difficoltà a liberarsi a venire stiamo lavorando con associazioni di volontariato questo deve essere anche molto chiaro anche per le nostre istituzioni che ci ascoltano ed è un grosso impegno riuscire a liberare anche del tempo per fare questo tipo di attività lo facciamo perché ci crediamo perché siamo convinti che questo sia il futuro del nostro patrimonio culturale che questo è il nostro patrimonio culturale il patrimonio culturale siamo noi qui riuniti che vogliamo trasmettere il valore di queste tradizioni e la pratica soprattutto la pratica viva di queste tradizioni alle future generazioni se voi guardate il programma soltanto il nome dei giochi abbiamo avuto un piccolo esercizio verbale sulla diversità dei nomi dello scianco questa diversità di un solo gioco Paolo il presidente ha ricordato quanto ognuna di queste associazioni qui presenti in realtà ha ramificazioni in altri gruppi di praticanti che magari non si conoscono uno degli obiettivi è continuare a mappare continuare a mettere in rete e sono meravigliosi questi nomi è un piccolo lessico che noi abbiamo in questo programma è un piccolo lessico della ludodiversità come l'hanno chiamata i francesi e gli studiosi insomma che hanno lavorato non in Italia ma in particolare in Francia e in Belgio su questo tema della diversità del gioco come patrimonio culturale Balacrea abbiamo la montagna molto presente abbiamo i laghi abbiamo le nostre pianure Balacrea Labirilli e Piastre Bisse Ciaramela Morra Pirli Ruzzolone Sburla la Roda soltanto questo quanta curiosità ci suscita pensate a qualcuno che non conosce per niente questo patrimonio come ero anch'io solo pochi anni fa e quindi abbiamo da fare anche un grande sforzo di comunicazione un grande sforzo per far conoscere maggiormente questo patrimonio per farlo apprezzare per dargli tutto il valore anche di visibilità che merita e questo sforzo conoscitivo di comunicazione poi si deve collegare con che cosa nel programma della giornata noi avremmo anche l'intervento di una giurista Benedetto Obertazzi che ci accompagna diciamo accompagna anche l'archivio in tutta una riflessione sul tema della salvaguardia perché perché tutte queste attività possono essere trasmesse abbiamo bisogno di nuove normative un lavoro di sensibilizzazione delle istituzioni locali dei sindaci dei comuni dei responsabili delle comunità a livello locale e questo lavoro potremmo farlo insieme sulla base di quello che stiamo costruendo quindi questo lavoro di documentazione preziosissimo che stiamo facendo insieme allora per tornare a quel camioncino che non è partito nel 2020 quando eravamo tutti pronti a partire cosa è successo da quel momento beh c'è stato un attimo di sgomento proprio di veramente non sapevamo veramente dove battere la testa tutti quanti poi ci siamo detti e questo per questo abbiamo messo come trasformare una difficoltà in opportunità il progetto in gioco in tempo di pandemia e il valore dell'autodocumentazione ci siamo detti si parla molto in ambito unesco di autodocumentazione cosa significa questo significa che le comunità possono e in parte spesso già lo fanno perché vediamo quanti archivi andiamo a scoprire nei nostri terreni documentare il loro gioco da quello che abbiamo chiesto poi alle quattro comunità del 2020 quindi Naet della Polisportiva Monte Isola nel Bresciano la comunità della Palla Elastica di Sabbio Chiese la comunità della Schida di Guidizzolo nel Mantovano e la comunità del Tamburello ecco con queste comunità abbiamo aperto un nuovo terreno di lavoro vai facendo che cosa cominciando a immaginare come quella ricerca fondata su relazioni di terreno interviste produzioni di documentazione guidata da noi poteva auto-organizzarsi a livello locale in dialogo con Aga quindi abbiamo iniziato e voi lo sapete tutti perché una serie di incontri online che ci hanno davvero fatto bene perché ci hanno fatto sentire che anche nell'impossibilità di essere insieme fisicamente potevamo comunque andare avanti insieme quindi ci hanno sostenuto nel nostro sconforto proprio perché la relazione umana è preziosissima è una fonte di felicità come ci dicono i filosofi di benessere fondamentale ci hanno permesso anche di e anche per me è stata una grandissima lezione che sto apportando anche in altri contesti quindi anche qui Aga ha aperto un terreno di sperimentazione molto importante di organizzare un lavoro di diciamo di studio e ricerca che avete gestito voi quindi andando a cercare i vostri anziani i vostri giovani organizzando interviste decidendo dove fare i filmati in che contesto di paesaggio parlare delle pratiche e quindi tutto questo adesso noi lo andremo a in qualche modo apprezzare attraverso un breve montaggio di questi materiali che ci sono arrivati da voi quindi tutti i materiali che sono stati prodotti dalle comunità in dialogo con l'associazione e con noi tutti durante il periodo di pandemia in alcuni casi come nel caso del tamburello ci sono stati anche dei terreni siamo insomma Gianmarco e Paolo sono sono venuti a trovare le comunità in periodi diciamo favorevoli e c'è stato quindi anche un lavoro più come dire di presenza anche anche fisica accanto alle comunità in realtà abbiamo approfittato di alcune finestre che ci ha permesso qualche incontro la situazione a macchia di leopardo temporale insomma temporalmente parlando e quindi con con il tamburello siamo riusciti a fare questa operazione solo con loro praticamente dell'ultimo dell'anno scorso insomma allora poi parlerò un attimino di questo montaggio che tra poco andiamo a vedere e poi apriamo la parte meno orale e anche più visiva con tutta la documentazione che è stata preparata da Barbara Rigon per quanto riguarda il montaggio che adesso vedremo da la dottoressa Scomparin per quanto riguarda tutti i powerpoint documentazione insomma e poi vi parleremo anche di questo questionario di cui che abbiamo diffuso perché proprio per essere molto concreti nel nostro modo di lavorare e rilevare quelli che sono i bisogni concreti delle comunità abbiamo intrapreso un uso di questionari che sta dando grandi risultati perché è uno spazio di espressione delle comunità che ci permette di raccogliere i dati concreti e quindi poter dare anche concrete risposte mentre succedeva tutto questo l'UNESCO ha lanciato una campagna Living Heritage in face of the COVID-19 che andate a vedere sul sito dell'UNESCO trovate anche Tocca T a cui abbiamo partecipato con testimonianze con raccogliendo appunto sempre e questo ci ha aiutato a tenere le fila delle relazioni tra di noi quindi questa è una dimensione fondamentale per questo abbiamo messo in cartellina perché voi possiate tutti andarvi a cercare Tocca T dentro questa questa piattaforma mondiale perché e qui vi richiamo al valore di quello che stiamo facendo in una prospettiva internazionale nella cartellina abbiamo messo anche un foglio che mettiamo sistematicamente da un po' di anni ormai da qualche anno nelle nostre cartelline sono i dodici principi di etica della convenzione per la salvaguarda del patrimonio immateriale allora io vi direi non voglio essere troppo lunga e annoiarvi però mi sento un po' responsabile del fatto che questo tipo di ricerca che stiamo conducendo deve portare a una maggiore consapevolezza dei vostri diritti e con la consapevolezza dei vostri diritti una maggiore fiducia nelle vostre possibilità di incidere anche sulle politiche culturali sul futuro del patrimonio regionale e quindi questi dodici principi di etica sono preziosissimi se voi guardate il primo il primo dice le comunità i gruppi e gli individui devono avere il ruolo principale nella salvaguarda del proprio patrimonio culturale quando Agostina diceva la convenzione ci ha aiutato a cambiare il nostro modo di lavorare mettendo al centro le comunità questo è il primo principio di etica della convenzione il secondo dice il diritto delle comunità a mantenere le pratiche rappresentazioni espressioni conoscenze e competenze necessarie per garantire la vitalità del patrimonio culturale deve essere riconosciuto e rispettato ed ecco la lettera dell'assessore che dice esattamente questo secondo principio di etica il terzo principio dice il rispetto reciproco il rispetto deve prevalere nelle interazioni fra Stato io direi anche regioni e comunità gruppi e individui quindi senza conoscenza senza riconoscimento non ci può essere rispetto pensiamo al gioco della morra che tutt'oggi non beneficia di una normativa adeguata è stato considerato appunto illegale durante il ventennio e solo il Trentino Alto Adige ha adeguato la sua normativa alla nuova realtà della morra che è una realtà culturale straordinaria fortissima che copre tutto il bacino del Mediterraneo ed oltre tutte le interazioni con le comunità quarto principio devono essere basate su dialogo negoziazione e consultazioni trasparenti subordinati al consenso libero preventivo e informato quindi ecco che noi qui stiamo lavorando sulla trasparenza nel rapporto fra comunità e istituzioni il quinto è quello sull'accesso quindi abbiamo anche il tema della comunicazione la piattaforma web sulla quale vengono caricati i dati è libera voi potete accedere e questo è fondamentale se voi andate fino in fondo vedete che al doticesimo principio avete la salvaguardia come interesse generale per l'umanità quindi abbiamo una prospettiva davvero di cooperazione internazionale ed è per questo che Tocatì ha deciso di intraprendere il percorso di candidatura al registro delle buone pratiche le comunità ludiche in rete sono la prima rete italiana che si impegna in un percorso di buona pratica per la convenzione regione Lombardia come regione del Veneto sono le due regioni che sostengono molto concretamente questo percorso e questo è importantissimo veramente molto importante a livello nazionale quindi abbiamo anche una grande responsabilità e siamo molto felici di assumercela anche perché insomma il gioco è davvero il futuro noi siamo convinti di una società migliore e adesso io direi che possiamo guardare questo questo piccolo montaggio che poi andrà anche online sulla piattaforma Intangible Search che è una mini 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 selezione del tantissimo materiale che abbiamo ricevuto da voi abbiamo veramente ricevuto tanto 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 materiale vi ringraziamo infinitamente del lavoro che siete riusciti a fare sui vostri territori siamo sicuri che in alcuni casi il contributo di giovani che sono molto bravi con gli strumenti digitali è stato fondamentale e dal questionario che andiamo a presentare vediamo come la pandemia ha riavvicinato le generazioni proprio grazie alle nuove tecnologie questo è un grandissimo tema sul quale poi nel dibattito andremo a riflettere insieme allora a questo punto io chiederei a Sofia di far partire questo questo video e poi ecco Paolo vuoi dire qualcosa solo per dire il video che andiamo a vedere come ha detto Valentina è un'estrema sintesi di quello del materiale raccolto è una sintesi anche di quello che andrà effettivamente all'interno dell'archivio riguarda le quattro comunità che hanno lavorato lo scorso anno quindi non ci saranno quelle le otto le prime otto sono le ultime quattro perché siccome ho visto Boccalari che ha detto oh vediamo un'altra volta la ciaramella no la ciaramella non la gania ecco però in effetti questo tipo di lavoro che abbiamo fatto ci invita ci favorisce un'apertura per il futuro di questo progetto che speriamo di poter continuare attraverso insomma tutto il lavoro dell'archivio e del bando sull'immateriale io direi che questa cosa ci ha insegnato che veramente le comunità quando autodocumentano fanno emergere aspetti che non emergono altrimenti e quindi io direi che un lavoro simile sarà molto interessante farlo anche sulle altre comunità quindi cercheremo insomma di sensibilizzare di raccogliere le volontà degli uni e degli altri per andare avanti in questa prospettiva adesso basta andiamo ah volevo dire no andiamo a vedere anche noi da giù ah sì allora la cosa interessante da dire è intanto che appunto le comunità che non hanno fatto una documentazione propria hanno però lavorato a distanza per organizzare trovare le persone i giovani i bambini quindi c'è stato tutto un lavoro anche di questo genere quelle comunità in particolare come Naet e la Palla Elastica che hanno fatto un grosso lavoro invece di autodocumentazione autogestito hanno inviato tanto materiale è veramente un materiale su cui si potrebbe fare un filmato a sé che infatti poi verrà consegnato con con i materiali insomma dell'inventario che è stato veramente per noi abbastanza impressionante e quindi ecco su questo io mi auguro che noi riusciremo a fare anche un seminario magari ad hoc dedicato proprio a fare tesoro di queste esperienze come dicevo prima per il futuro il coinvolgimento dei bambini e delle giovani generazioni è stato molto più forte in periodo di pandemia che non quando noi andavamo normalmente sul terreno se voi vedete i materiali prodotti sulle otto comunità prima della pandemia abbiamo molto più persone adulte anziani eccetera perché tradizionalmente quando si parla di patrimonio di tradizioni c'è questo effetto diciamo è una difficoltà a coinvolgere i giovani e i bambini che invece appunto il covid ha un po' sbloccato quindi questo è un elemento sul quale riflettere insieme allora adesso io chiamerei la dottoressa Scomparin Sofia Scomparin a presentare questo lavoro importante che abbiamo fatto tramite questionario a cui avete tutti partecipato con le vostre risposte col vostro impegno e poi progressivamente dopo la la presentazione appunto di Sofia Scomparin dei dati complessivi dei risultati del questionario avremo invece un tempo dedicato ad ognuna delle comunità che verrà un po' a raccontare l'esperienza della pandemia commentare i dati del questionario qui insieme a noi insieme al presidente Avigo quindi io darei la parola adesso a Sofia per il questionario anche magari con un breve racconto di come mai abbiamo deciso di lavorare in maniera così focalizzata sui bisogni delle comunità le difficoltà e trarne dei dati dei dati insomma utilizzabili per per il futuro prego Sofia intanto vi saluto con questo poi mi sposterò davanti al computer per riuscire a girare le slide e sì appunto come ha introdotto Valentina il lavoro che noi stiamo facendo di raccolta di dati di bisogni concreti che hanno le comunità di gioco è importantissimo nel senso che oltre a conoscere i vostri giochi e sport tradizionali è importante per noi come associazione fare da tramite per i bisogni che sentite per fare in modo che questo gioco continui ad essere praticato quindi come in questo incontro anche in altri momenti in cui ci siamo incontrati in altre occasioni abbiamo subito attivato un ascolto che vuole portare a delle soluzioni concrete per far fronte ai bisogni che avete condiviso quindi vi ringrazio tantissimo di aver risposto perché sono i dati con cui lavoreremo poi per riuscire a rispondere a quelle che sono le vostre necessità a me piace sempre tanto lavorare sui dati nel senso che appunto mi sembra di riuscire anche ad avvicinare il lavoro dell'associazione e di momenti come questi ad una concreta realizzazione di un piano per il futuro diciamo cioè sento che è un lavoro importante per la trasmissione che è una cosa che sento molto vicina a me che mi interessa anche per questo mi piace lavorare in questa associazione proprio perché anche essendo giovane o metà giovane sono temi molto interessanti che spero che restino anche nel futuro e quindi l'impegno per la trasmissione secondo me è molto importante e questi dati aiuteranno a far sì che questo possa accadere ecco allora sì quello che abbiamo fatto concretamente come metodo di lavoro è stato ascoltare i dati che ci avete condiviso sia tramite questionari che giornate di dialogo o tavoli territoriali come quella che stiamo vivendo oggi abbiamo identificato alcuni bisogni che appunto ho sentito molto da voi e stiamo elaborando delle proposte di azioni per soddisfare appunto come vi dicevo i bisogni che avete condiviso questo sia il titolo del questionario che vi abbiamo condiviso per la realizzazione di questa giornata si chiama in tempo di pandemia resistenza creatività e criticità delle comunità di gioco e sport tradizionale durante il covid-19 qui invece ci sono proprio rappresentati i dati che abbiamo raccolto in maniera che anche voi possiate avere un'idea di come hanno vissuto il periodo pandemico le altre comunità di gioco oltre alla vostra alla domanda credi che la pandemia da covid-19 abbia portato dei cambiamenti irreversibili nella vostra pratica il 33% ha risposto sì il 66,7% ha risposto no quindi diciamo che il periodo pandemico ha segnato particolarmente il 33,3% delle vostre comunità e invece è passato abbastanza diciamo in maniera meno sentita per il 66,7% delle comunità di gioco nel caso in cui abbia portato dei cambiamenti irreversibili le motivazioni che avete segnalato sono una diminuzione del numero di giocatori e giocatrici che giocano il gioco nel senso che magari aver interrotto le attività ha fatto in modo che poi ci sia stata una dispersione di questi praticanti di giocatori o giocatrici del gioco oppure in alcuni casi avete segnalato proprio la cessazione dell'attività di gioco sport tradizionale nel senso che appunto è stata chiusa temporaneamente per la situazione pandemica senza riuscire invece a trovare delle modalità come quelle che abbiamo appena visto nel video cioè si è dovuto interrompere il gioco sostanzialmente non c'è stata un'opzione B come ultima motivazione cioè di cambiamento irreversibili ci avete segnalato l'interruzione di attività rivolte alla ricerca di nuovi giocatori cioè ad esempio le attività che venivano fatte nelle scuole o in altri momenti per trovare membri delle nuove generazioni che giocassero sono state completamente quando invece magari erano iniziati dei progetti importanti in questo senso dopo la pandemia da covid avete ripreso le attività di gioco il 100% di voi ha detto di sì quindi per noi è stato bellissimo saperlo anche questo era importante e quindi tutte le comunità di gioco presenti hanno ricominciato ad oggi a giocare con che frequenza ecco una cosa che mi piace sottolineare è quanti colori ci sono in questo diagramma nel senso che tutte le attività di gioco sono molto particolari e questo si vede anche con la frequenza di gioco c'è chi gioca una volta al mese chi una volta a settimana chi più di una volta a settimana chi è la fascia verde la più importante gioca in occasione di eventi sagre o feste organizzate dopo il periodo di interruzione che c'è stato per il lockdown e poi ci sono alcune risposte che sono state al di fuori di quelle che avevamo suggerito ovvero una che dice che essendo il gioco estivo ci sono stati meno problemi derivanti dalla pandemia e quindi si è potuto giocare ugualmente una o due volte a settimana e invece la comunità del gioco del Pirli ha segnalato che il gioco è presente presso Cavalù centro servizi della valle delle sorgenti bioparco della valcavallina il gioco a disposizione dei visitatori che utilizzano ad ogni visita quindi sì diciamo che l'utilizzo è dato dalla frequentazione del luogo indicato ecco quanti giocatori e giocatrici sono attualmente coinvolti anche qui le risposte sono le più varie possono essere da 1 a 5 da 5 a 10 da 10 a 50 che è la fetta più consistente da 50 a 100 e 140 in un caso specifico e qui invece la segnalazione è sulla comunità dei Birilli di Marmirolo che ha segnalato che c'è stato un importante cambio generazionale e quindi il gruppo si sta un po' ricostruendo ma di questo parleranno meglio loro successivamente ok anche questo è un dato molto importante che aveva anticipato la dottoressa Zingari prima ovvero se la pandemia da covid-19 ha coinciso con un aumento dell'utilizzo delle piattaforme tecnologiche anche questo è molto interessante perché per la metà delle comunità di gioco sì per l'altra metà no nel senso che non sono state utilizzate maggiormente ma si è fatto fronte alla pandemia con altri strumenti tra quelle che sono state utilizzate maggiormente avete indicato Zoom Skype Whatsapp Google Meet Facebook e Instagram con una diciamo incidenza maggiore in particolare per Whatsapp alla domanda se considerate l'utilizzo di queste piattaforme positivamente un'ampia maggioranza il 66,7% è indicato di sì quindi anche questo per noi è un dato molto importante per organizzare incontri futuri in cui ad esempio affrontare questo tema accompagnarvi sul capire come possono essere utilizzati questi strumenti in che modo e accompagnarvi a un utilizzo che possa essere utile per la trasmissione del gioco alle nuove generazioni perché sono ritenute importanti o perché non lo sono non sono ritenute importanti perché tra le risposte che avete condiviso l'età dei giocatori a volte è un problema nel senso che non sono strumenti che vengono considerati utili da tutti i giocatori e giocatrici della pratica o semplicemente perché il gioco è molto più avvincente e molto più coinvolgente in presenza quindi le piattaforme non riescono a sostituire il gioco stesso o anche per una dispersione nel senso che avete condiviso che gli incontri in presenza erano più costruttivi magari di fare una colla o di sentirsi a distanza per molto tempo senza alla fine riuscire magari a confrontarvi come facevate una volta in presenza è importante invece per riuscire a condividere maggiormente i risultati con i giovani e il gioco con i giovani e avete evidenziato e questo è molto importante che attraverso i social siete riusciti a trovare dei nuovi giocatori e giocatrici questo ad esempio per noi è un dato nuovo abbiamo sempre pensato i social come promozione e visibilità del gioco ma si è dimostrato utile anche per trovare nuovi praticanti questa è una sintesi diciamo di tutte le risposte che poi vi renderemo disponibili se volete approfondirle sì sì appunto la comunicazione del gioco sport tradizionale riesce ad arrivare ad un pubblico più ampio nel senso magari forse è riuscito ad arrivare anche dove non arrivava la promozione banalmente di alcuni eventi organizzati ad hoc per la ricerca di giocatori o giocatrici o anche proprio nei momenti di gioco dove giustamente i giocatori sono impegnati a giocare e non hanno il tempo di promuoverlo di farlo conoscere maggiormente come invece si può fare con i canali social e con le piattaforme ok questo invece è un dato che abbiamo voluto raccogliere in merito ai supporti dati dalle istituzioni locali il 75% di voi ha risposto che non vi hanno supportato nel periodo pandemico e il 25% sì nella slide successiva forse ci sono anche i modi in cui siete stati supportati nel caso in cui ci sia stato un contributo da parte delle istituzioni è stato segnalato ad esempio dalla comunità della Ceramela che il comune di Mede ha contribuito economicamente al sostentamento delle attività nonostante il periodo di difficoltà comunque dato anche della situazione pandemica è stato condiviso che c'era una grande disponibilità a trovare un supporto e un dialogo con le istituzioni dalla comunità della Morra e è stato segnalato che in questo caso c'è stato sia un piccolo contributo economico che enorme quantità di gel igienizzante che sembra banale però in realtà per continuare a praticare per riuscire a incontrarsi è stato fondamentale per continuare a praticare il gioco e le ultime due domande hanno chiesto se avete variato in qualche modo gli spazi o le regole del vostro gioco sport tradizionale per continuare a giocare quindi quello che avete un po' visto prima con il NET il 75% delle comunità non ha variato assolutamente lo spazio di gioco il 25% sì cioè si è adattato ha rivisto un attimo lo spazio dove poter praticare il proprio gioco per quanto riguarda le regole invece che era l'ultima domanda che vi abbiamo posto non sono state assolutamente modificate da nessuna della comunità di gioco sport tradizionale tutte queste domande che noi abbiamo pensato e che vi abbiamo proposto ci sono servite proprio anche per rispondere alle domande che ci facevamo noi stessi su come avevate affrontato questo periodo pandemico quindi appunto le terremo con noi e sono molto preziose e le ritroverete sotto forma di risposta spero in un incontro futuro quindi grazie mille a tutti ringrazio ringraziamo tantissimo per questi dati questi dati sono come faceva notare anche la dottoressa dottoressa lavagnino importanti anche a livello nazionale non abbiamo diffuso il questionario a livello nazionale quindi questa è davvero un'iniziativa che si è svolta all'interno del progetto in gioco che potrà essere portata a livello nazionale nella prospettiva di formazione per gli impatti sulla salvaguardia del gioco di cui andremo a riflettere fino a che non ci lasciamo in particolare nel pomeriggio con l'intervento della dottoressa Ubertazzi e poi il dibattito è chiaro che alcuni casi mettiamo il comune di Mede che ha avuto questa capacità a lavorare in maniera molto stretta con la propria istituzione locale possono essere considerati delle buone pratiche da portare all'attenzione degli altri comuni per fare in modo che ognuna delle esperienze positive possa essere mutualizzata con gli altri quindi uno degli obiettivi della rete non è soltanto voglio dire la modifica delle situazioni di criticità e la trasformazione positiva in funzione della salvaguardia di questo patrimonio potrà avvenire anche attraverso la nostra capacità a puntare i riflettori su soluzioni che sono state trovate in alcuni contesti possono essere utili a voi tutti anche per dire se in futuro volete fare un lavoro come mi auguro che faremo di sensibilizzazione delle vostre istituzioni si organizza una giornata nel vostro territorio si portano esempi concreti da altri territori e quindi si stabiliscono relazioni fruttuose e naturalmente tutto questo può essere poi comunicato attraverso la piattaforma regionale quindi diventare in qualche modo patrimonio comune adesso iniziamo dunque io richiamerò naturalmente Sofia e anche Paolo qui perché iniziamo poi faremo una pausa con dare la parola alle comunità la dottoressa Scomparina ha preparato un sì un una presentazione powerpoint in cui diciamo compaiono i risultati del questionario pandemia per ognuna delle comunità coinvolte e vi chiameremo a commentarlo e a portare la vostra testimonianza qui in diretta a questo a questo tavolo quindi io chiedo a Paolo di sedersi perché sarà lui a fare il il moderatore di questa di questo giro di testimonianze e cominciamo allora dovremo portare anche le scuse della comunità del net che stamattina non è qui con noi e che ha fatto un incredibile straordinario lavoro di autodocumentazione e quindi lascio il microfono a Paolo per chiamarvi e iniziare insomma questo giro di riflessione su ognuno dei vostri casi particolari sentitevi anche liberi di fare una piccola presentazione della vostra associazione in alcuni casi abbiamo realtà anche molto nuove che si stanno insomma organizzando abbiamo gruppi che hanno cessato attività come le bis di Desenzano che però abbiamo la lega bis che sta adesso lavorando per recuperare quindi c'è tutta una dinamica in corso che sarà interessante insomma commentare e analizzare anche insieme a voi pensavo ci fosse pensavo ci fosse un disturbo elettronico invece è un disturbo sì ma ma di diversa origine ma una cosa soltanto adesso facciamo le quattro comunità del 2020 poi facciamo una pausa caffè e poi proseguiamo con le altre allora io camerei la palla elastica Roberto Alex e Giuliano se vogliono tutti e tre o Andrea eh vabbè Andrea sì mi hanno cambiato il nome qui non so Andrea Barruzza allora vedete come fare sedete salvio chiese è uno dei punti dove dove si gioca la palla elastica e non è non è l'unico comune dove dove si svolge questa attività ed è ed è una delle delle organizzazioni di cui parlavo prima noi abbiamo parlato di sabbio chiese ma eh c'è una rete che di di comuni e di giocatori che fanno capo a questa organizzazione quindi io darei la parola al presidente a Roberto Marchi no dai tu la parola al tuo gruppo allora facciamo così così non faccio può dire qualcosa anche Alex no porca miseria Alex è fondamentale Alex è un gran giocatore ma cattivo parlatore non parlerebbe mai Alex è fondamentale anche perché è il giocatore vero e proprio io ho visto giocare solo lui ti ho visto solo chiacchierare quindi quindi hai visto il meglio della bala no nel senso ecco Alex sarebbe il presidente del GS Pala Elastica che sarebbe la bala in dialetto nostro e io sarei presidente del gruppo di Ferragosto sabbio sopra che organizza oltre al torneo locale la festa che tutti gli anni facciamo a Ferragosto dal 1981 quando è stata riproposta dai nostri padri diciamo e adesso stavamo portando avanti noi questo discorso e abbiamo creato nel 2009 il gruppo GS Pala Elastica perché ci eravamo iscritti a una sorta di campionato italiano dove abbiamo scoperto realtà di gioco sempre fatto in strade e piazze in Toscana Liguria Veneto Friuli e Piemonte prendi il micro ecco il gioco da noi è fatto prevalentemente nella nostra valle Valsabbia e la vicina Valtrompia giochiamo con la pallina da tennis senza il pelo con le mani si è visto un piccolo spezzone a qualche foto ecco e così niente noi giocando in estate quindi da giugno fino a primi di settembre non abbiamo avuto un impatto così difficoltoso per via della pandemia nel senso che con regole un po' ristrette però siamo riusciti ad andare avanti e a giocare con l'aiuto se può essere utile avete anche i dati che avete condiviso nella presentazione se è utile sì infatti in gioco esatto come stavo dicendo l'impatto più grosso era stato lo scorso inverno quando in inverno giochiamo in palestra un gioco simile allo squash però con le mani e quello non abbiamo potuto portarlo avanti quindi siamo ripartiti a freddo diciamo verso giugno mentre adesso abbiamo ripreso in palestra speriamo di poter andare avanti e vediamo per tenerci un po' in forma un po' allenati ecco lui è Andrea Baruzzi è assessore allo sport del sabio chiese al nostro paese comune che collaboriamo da sempre praticamente per l'organizzazione di tornei e tutto il resto le difficoltà più che altro che abbiamo è a giocare in strada noi perché come diceva Alfredo Bianchi nel video se forse per noi giocheremmo sempre però la gente ogni tanto si lamenta quindi quello è un problema un po' grosso poi non ho capito devo commentare non preoccuparti quelli li proiettiamo per far vedere a tutti quello che abbiamo raccolto se può esservi utile ogni tanto guardateli pure comunque la cosa più importante è che parliate dei bisogni che sono emersi proprio in questa pandemia quindi quello che stavi dicendo sull'utilizzo degli spazi è perfetto è proprio dei bisogni sentiti dalla vostra comunità di gioco per continuare a giocare nel luogo in cui giocate sostanzialmente sì ecco il discorso è quello noi abbiamo anche un campo che è uno sferisterio è proprio un campo regolamentare diciamo che è fatto attorno all'anello diciamo del campo da calcio e lì non abbiamo nessun problema a giocare però il gioco vero della bala è fatto nelle strade nelle piazze dove hai regole magari adattate dove il gioco è più vario dove è più semplice giocare anche in estate e trasmettere insegnare anche ai bambini il gioco perché se io ho dei bambini e gli dico adesso andate a giocare vanno in strada come giocano sempre in strada i bambini loro riescono a imparare a giocare là invece è un po' più complicato perché devi entrare registrarti il gioco è più difficile giocando nel campo aperto diciamo ci sono la problematica grossa nostra è questa nel senso che ho fatto una mezza litigata anche quest'anno per riuscire a fare il torneo perché dopo tutto l'impegno che ci avevamo messo per riuscire a riproporre il torneo dai bambini perché da una decina d'anni non facevamo più il torneo dei bambini proprio perché i bambini non giocavano più questo gioco perché non lo conoscevano perché se tu l'estate giochi a tutto fuori che quello perché giocando a quello dà i fastidio e crei problemi alla fine gli unici che giocavano eravamo noi che avevamo già imparato il gioco gli anni prima però come dicevo ad Alex c'è un orologio quando smettiamo di giocare noi c'è qualcuno ancora dietro ma poi non c'è più nessuno che porta avanti la tradizione quindi anche l'idea che aveva avuto l'assessore Andre Baruzzi nel 2019 di andare nelle scuole spiegare il gioco far vedere dei video è tutto era stata un'ottima idea però che è successo Andrea? però siamo rimasti un attimino fermi ma il lavoro di autodocumentazione era iniziato in tempi non sospetti perché l'idea era quella di andare nelle scuole avevamo già chiesto l'autorizzazione ci è stata concessa però ci voleva qualcosa da illustrare al di là dell'Alfredo che magari può spiegare un po' quello che è successo visivamente dovevamo presentare qualcosa e loro avevano iniziato il lavoro che stanno facendo in quel tempo poi adesso la scuola ha chiuso ogni collaborazione perché non possiamo entrare però ecco l'amministrazione è da sempre vicina allo sport della bala diciamo come lo chiamiamo noi come dice Roberto il campo storico in questi anni è aperto solo in determinate giornate perché come diceva Alfredo si dà un po' fastidio si è sempre giocato però le cose cambiano e insomma comunque ecco quello che ha detto Roberto è che anche se loro sono giovani se siamo giovani bisogna cominciare a passare il testimone un attimino prima che non ci sia più dietro nessuno perché poi quando non c'è dietro nessuno il testimone rimane rimane fermo grazie ascolta e non so Alex vuoi dire qualcosa visto che sei il presidente del io è il presidente il miglior giocatore d'Italia di Bala sono i campioni italiani di nuovo no beh niente di più di quello che è già stato detto l'unica cosa io coltivo questa passione per l'aggregazione per tutto quello che c'è per l'insieme il coinvolgimento dei ragazzi però giustamente bisognerà creare un futuro anche per quelli che verranno dopo ci stiamo provando quest'anno abbiamo già fatto più dell'anno scorso perché abbiamo già organizzato anche due o tre tornei esclusivamente per i bambini perciò stiamo lavorando per questo progetto se riusciremo in futuro andare in una scuola comunque a far vedere delle immagini comunque pubblicizzarlo meglio magari può essere che si aggreghi ancora qualche giovane in più per poter dare proprio un futuro a questo sport a questa passione dai questo caso è interessantissimo io vorrei sottolineare intanto questa importanza fondamentale del gioco in strada in piazza che è uno degli aspetti culturali rilevanti proprio che distinguono il gioco tradizionale il gioco lo sport tradizionale dallo sport che si fa in luoghi diciamo chiusi separati dalla comunità il gioco dentro la comunità in Toscana abbiamo appunto alcune associazioni come un'associazione della Palla E che è proprio vicina a casa mia dove il lavoro con la popolazione cioè il gioco è sentito da tutti e quindi non c'è questo problema che state denunciando voi di una mancanza di come dire di tolleranza rispetto al rumore perché è proprio considerato il patrimonio della comunità io credo che questo sia un aspetto sul quale davvero bisogna lavorare di più per fare un lavoro di sensibilizzazione della vostra popolazione della vostra comunità al valore di questo gioco perché è chiaro che se cominciano a protestare perché c'è rumore perché si rompe un vetro con la palla ci vuole una solidarietà e qui si viene al tema della coesione sociale e poi il tema della scuola è un tema fondamentale ce l'abbiamo in un sacco di casi anche a Mede ma anche in altri contesti e credo che questo è il futuro che dovremmo sviluppare insieme anche in regione cioè un lavoro sul tema del patrimonio immateriale con le scuole che nel caso di pratiche così concrete potrà essere anche tanto favorito anche associazione giochi antichi già da molti anni lavora nelle scuole e stiamo adesso lavorando a un nuovo progetto pilota in regione del Veneto in cui non è solo nell'ora di educazione fisica che si va a introdurre il gioco ma anche nelle ore delle altre materie per far capire quanto storia geografia scienze naturali matematica tutte queste materie hanno a che vedere col gioco tradizionale quindi togliamo il microfono Valentina per favore grazie perché se no qua stiamo qua fino domani mattina allora no grazie 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 dai grazie grazie a tutti volevo solo una piccola domanda siccome so che quest'estate avete cercato di organizzare di sensibilizzare quello che stava dicendo Valentina i cittadini dei vostri paesi alla vostra attività è cambiato qualcosa da allora oppure non so forse l'assessore può dire qualcosa in merito è cambiato qualcosa oppure è rimasto tutto l'attrito c'è ancora l'attrito non c'è in tutti i paesi diciamo ogni paesino ha le sue problematiche che sono diverse per ogni realtà diciamo poi c'è un'isola felice dove noi ci troviamo tutti i sabati a Bione dove sei stato che là praticamente il problema è se non vai a giocare perché gli anziani escono e vogliono vedere a giocare e poi ti dicono come giocavano loro perché loro erano più bravi e ovviamente critiche da quel punto di vista lì sì no perché non si se la bambina lei la valina però detto questo abbiamo fatto un po' di rete anche noi diciamo almeno avendo riunito un po' anche le autorità anche degli altri paesi perlomeno abbiamo un po' valorizzato il gioco e tutto siamo riusciti a giocare anche a Belprato anche da noi a Sabio e così da noi c'è stato l'inghippo che mi aveva fatto un po' arrabbiare perché dopo che ero riuscito a convolgere dei bambini e avevano tirato su sei squadre il problema era spiegargli le regole specialmente che è stato molto impegnativo non mi è stato concesso un giorno in più per fargli fare il torneo ai bambini ma non dalle autorizzazioni da un abitante perché i cittadini il problema è che questo è talmente cosa che piuttosto che dar contro lui è andato contro me facendo la soluzione più semplice ho trovato un altro campo però alla fine va bene non posso organizzare una cosa qua e una là bisogna sistemarla dobbiamo continuare a lavorare c'è da lavorare sì c'è da lavorare sì grazie grazie a tutti grazie passiamo al Mantovano abbiamo la comunità della Schida ho visto Hermes eccoci sì dite voi se vi trovate meglio a guardare e parlare e quindi fate come come foste sicuramente più vostra che mia andate andate allora la comunità della Schida è una comunità che è conosciuta da noi era conosciuta da qualche anno perché penso che al festival al toccativo voi siete arrivati abbiamo partecipato sì uno dei primi anni proprio uno dei primi anni poi c'eravamo un po' arenati sì perché eravamo convinti che il gioco non ci fosse più sinceramente perché le ultime volte che avevamo chiesto ma c'era un po' di fatica così invece è stata una grande sorpresa che sapere che l'attività non solo continua ma con nuove energie e è riuscita ad allargare il campo d'azione anche ad altri territori quindi diciamo il gioco della Schida è un gioco che si gioca da sempre non possiamo dire lui e Luca io sono Erna siamo due giocatori dirigenti un po' di tutto è un gioco che c'è sempre stato nei miei 57 anni io l'ho sempre l'ho sempre visto alti e bassi a volte tante partecipazioni a volte meno sono manifestazioni organizzate un po' da tutti può essere organizzata da un bar può essere organizzata da una proloco può essere organizzata dal comune dipende un po' dai casi dei vari anni che che vengono fatte fa parte di un non c'è solo non c'è solo la Schida sono due o tre giochi legati partono tutti un po' da chi giocava una volta a tamburello e c'è la balina che è un tamburello soft diciamo un pallino più piccola che all'epoca quello che ci raccontavano ancora i nostri nonni veniva anche ricavata da materiali diciamo di recupero che potevano essere se pensiamo addirittura al tempo dell'anteguerra che era quello che si diceva perché la memoria storica va addirittura al tempo dell'anteguerra venivano prese dei materiali che le famiglie e tutti ovviamente non c'erano i soldi non c'era la possibilità di andare a comprare degli strumenti come oggi venivano realizzati in casa tant'è vero come avete visto nella piccola presentazione di prima la Schida non è altro che un asse di legno modellata un po' a forma di una piccola racchetta di tennis e la pallina per il gioco esatto sembra una piccola racchetta di tennis e la pallina di gioco oggi si gioca con la pallina soft che si gioca all'interno anche con il tamburello indoor ma all'epoca veniva realizzata in plastica quindi si prende dalle plastiche di recupero fatte bollire all'interno di una pentola si scioglieva si solidificava e quella era la pallina che rendeva il gioco ovviamente in quegli anni quel gioco qui veniva praticato da chi si trovava chiamiamolo un po' il dopo lavoro alla sera finito il lavoro dalle piazze dalle strade si tiravano quattro righe con i piedi in terra una cosa molto semplice si poteva cominciare a giocare da due contro due fino a cinque contro cinque per arrivare a trovare un momento di aggregazione perché anche allora era un momento di aggregazione quindi questo è lo scopo che poi si è portato avanti negli anni e che noi stiamo cercando di portare avanti e che abbiamo rappresentato anche a Tocatia Verona in più occasioni in questi ultimi anni qui una curiosità vi chiedo forse è interessante anche per chi sta ascoltando ma il nome Schida ecco sull'origine del nome io purtroppo è sempre stata la Schida ci sono informazioni che fanno donare il nome non abbiamo non abbiamo di fatto ognuno dice la sua una cosa certa dal perché del nome come non abbiamo una data certa di quando si è cominciato a giocare a chiunque chiediamo oggi si si giocava già una volta ti rispondono quindi se lui ha 57 anni già all'epoca i miei nonni giocavano possiamo andare indietro a pensare che già dopo la prima guerra mondiale nelle piazze nelle strade era già un gioco che si poteva ipotizzare non lo vogliono dire perché lo ritengono lo ritengono svilente per il gioco ma sembra no no assolutamente assolutamente che il nome derivi dall'attrezzo che viene tuttora utilizzato per mescolare la polenta questo attrezzo è un bastone che si allarga che è leggermente più largo poi no tutti abbiamo manovrato questo questo bastone quindi sembra che derivi proprio da 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 lì poi è ovvio che è stato modificato nel tempo e l'attrezzo è diventato quello che è attualmente insomma però è interessante che un attrezzo di lavoro diventi anche l'attrezzo di gioco dal punto di vista storico c'è un quadro che di un signore di Urbino Valdo della Rover penso se non mi ricordo male qui si parla del 500 rinascimento è vestito per giocare e in mano ha un attrezzo che potrebbe essere la sfida fa parte di quei di quei giochi poveri della tradizione che ci sono sempre stati e che nelle varie forme poi adesso possiamo associarlo che so al ping pong perché la racchetta alla fine è più piccola della sfida o se no l'altro che adesso giocano in verità possiamo dire che siamo i padri del padel proprio come battuta è questo perché ovviamente però a racchettoni sulla spiaggia tanti avranno giocato più o meno la sfida cioè non cambia tanto chiaro che fa parte di quel di quel mondo sì sì diciamo della sferistica certo certo però uno che viene a guidizzolo se c'è un gioco a cui tutti hanno giocato è alla sfida perché bene o male non è un gioco diciamo che qualcuno ci gioca non lo conosco tutti hanno giocato alla sfida però non tutti potrebbero dire di aver fatto un torneo ecco quella cosa è diversa da fare un torneo e giocare sì sì dopo stavo guardando un po' di domande che abbiamo messo dal questionario che sinceramente l'ho compilato un po' di tempo fa e non me lo ricordo la pandemia ovviamente nell'anno del 2020 ha fermato totalmente la pratica la pratica di gioco mentre nell'estate questa estate 2021 siamo riusciti a organizzare un piccolo torneo nel periodo della sagra della sagra estiva dove siamo riusciti un attimo a riprendere questa cosa ovviamente la ripresa è difficile le norme ci sono un po' contrastanti quindi anche noi abbiamo a volte alcune titubanze nell'organizzare qualcosa e siamo comunque certi che la cosa possa solamente migliorare col tempo e noi siamo pronti comunque a ripartire l'avevamo inserito in un scorso anno nei giochi del centro sportivo italiano che dovevamo fare nel Mantovano un piccolo torneo un campionatino chiamiamolo così dopo la pandemia ha fermato tutto e avrebbero riguardato la schida lo sciancol e un altro gioco che è la sciafetta che assomiglia un po' alla palla elastica ma è diverso il pallone più grande si gioca con le mani quello più vecchio ancora ci hanno sempre giocato tutte va bene grazie ricordo solo che una delle pochissime attività che siamo riusciti a portare in presenza a Toccati nell'anno Orribilis 2020 è stata la schida sì 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 grazie ancora per questo grazie a voi grazie a voi per l'invito allora e Tamburello Tamburello fantastico allora abbiamo Simona Trionfini e Roberto Locatelli ho fatto giusto i nomi questa volta sì allora e come avevamo accennato prima il Tamburello di Dossena è stata l'unica delle realtà di che abbiamo visto questa sera che stiamo vedendo adesso su cui siamo riusciti ad andare a lavorare in presenza e quindi parte del materiale che avete visto e che si vedrà poi in archivio è stato fatto da noi in collaborazione ovviamente con voi prego allora buongiorno a tutti innanzitutto dico che Dossena è un paesino forse da qui lo vedete a mille metri proprio di montagna un piccolo paese mille abitanti quindi piccolino e naturalmente anche la logistica è una strada un po' complicata e il Tamburello lì è la tradizione è la vita di questo paese sì addirittura gli anziani dicono che il Tamburello è proprio nato lì proprio in questa piazza che adesso è diventato il campo ufficiale tutto a posto ma prima era una semplice piazza dove gli anziani giocavano andavano a giocare e pare proprio che il Tamburello sia nato da lì adesso il Tamburello logicamente si è evoluto molto e questo è il Tamburello effettivo che si usa al giorno d'oggi Dossena è ancora adesso nonostante sia uno sport nazionale internazionale venire a giocare a Dossena anche per gli altri paesi tipo c'era prima Guidizzolo Guidizzolo ci sono squadre fortissime di Tamburello venire a Dossena è venire proprio nella patria del Tamburello dove lì la gente c'è la gente va a vedere è un paese dove trovi tanta gente magari vai in un altro paese molto più grande e trovi i 20 appassionati arrivi a Dossena ne trovi 200 e dici ma dove sono e il Tamburello a Dossena è proprio vissuto un po' come il cuore c'è il calcio c'era la pallavolo c'è però il Tamburello è proprio lo sport di tradizione del nostro paese la pandemia logicamente ci ha toccato come tutti perché il 2020 abbiamo dovuto sospendere completamente tutto proprio perché legato al CONI legato a disposizioni proprio dalla federazione italiana è stato fermato tutto quest'anno si sta riprendendo logicamente magari nei piccoli noi abbiamo tre squadre di bambini nei piccoli specialmente nell'attività ci sono due campionati l'attività indoor che è fatta in palestra l'attività open che è fatta appunto su questo campo l'attività in palestra magari proprio dettata anche dalla paura di alcuni genitori no ma il bambino non lo mando perché in palestra c'è un po' di paura magari sai il contatto comunque è stato riconosciuto spot di contatto perché la pallina viene a contatto con tutti i bambini quindi è stata sospesa tutta nel 2020 e quest'anno si sta riprendendo qualche bambino magari lo perdi temporaneamente magari all'interno speri di recuperarlo fuori perché comunque lo sport la società tutti lui rappresenta tutta la società io rappresento il settore giovanile ci teniamo tanto ai bambini a portare avanti perché abbiamo delle squadre abbiamo una squadra che quest'anno militerà nella serie B abbiamo una serie A femminile che ha vinto la Coppa Europa nel 2019 quindi abbiamo un'attività molto bella da grande ma sicuramente bisogna puntare sui piccoli se no l'attività poi si ferma e questo è lo scopo principale della nostra società di quest'anno riavvicinare i bambini anche in periodo di pandemia anche dove è difficile anche dove loro anche con la tecnologia sono sicuramente più vicini sicuramente sono stati più a contatto però ecco lo scopo è andare avanti anche abitando proprio così lontano hai bisogno di spostamenti hai bisogno di sponsor comunque questa pandemia ha toccato tutti i settori e quindi fai fatica a trovare anche il lato economico il comune anche lui ha tante cose difficilmente riesce ad aiutarti se non in piccolissime cose quindi è sicuramente dopo la pandemia più difficile però ci sono tanti collaboratori e ce la stiamo mettendo tutta ecco allora non ho presentato Simona Trionfini nel suo compito all'interno della società è responsabile del settore giovanile quindi anche per questo avete sentito la sensibilità al trasporto con cui ha spiegato la situazione in particolare rispetto ai ragazzi i bambini le bambine insomma e quando siamo andati su a Dossena quello che mi ha colpito la prima cosa che mi ha colpito è proprio come diceva Simona la posizione del campo allora il campo di tamburello di solito insomma penso che molti di noi ne hanno visti è generalmente defilato dal un po' defilato dal centro come sono ormai defilati tutte queste situazioni i centri sportivi e così no lì no è insinuato dentro neanche non dentro ma proprio insinuato dentro nelle case del paese tant'è vero tant'è vero che quando siamo venuti non ricordo più chi ci ha detto che il timore delle squadre avversarie a venire a giocare sul campo di Dossena era proprio per la posizione non tanto per le misure che sono rispettate sostanzialmente ma proprio per la posizione dove si trovano a giocare all'interno delle case che dà una sensazione è completamente diversa per chi non è abituato senz'altro giocata in casa in questo caso già all'altezza mille metri comunque per il tamburello la pallina soffre un po' l'altezza quindi già comunque è difficile poi più lì sei in mezzo alle case ad esempio quest'anno noi dove abbiamo iniziato il campionato all'aperto ma completamente al chiuso per i tifosi era completamente a porte chiuse noi ad Ossena comunque il pubblico ce l'avevamo le finestre e comunque si faceva sentire lo stesso io penso che questo il ragionamento che si faceva prima con la palla elastica e della necessità di giocare tra la gente in questo caso è proprio assolutamente vero nonostante ci sia non una strada non una piazza ma sia stato costruito sostanzialmente un campo da gioco ma è stato costruito lì dove c'era la piazza quindi può essere sicuramente un sistema per mediare tra le cose noi abbiamo il centro sportivo dove c'è il campo da calcio dove c'è una palestra all'ingresso del paese e all'inizio si era pensato di spostare lì anche il campo morirebbe la metà sicuramente morirebbe la metà delle persone che sono comode lì che lo vivono lì il tamburello è lì è una curiosità mia che ho chiesto ma ho ricevuto delle risposte un po' sibilline le case che si affacciano avete mai avuto qualche problema con la maggior parte delle persone giocano a tamburello quelle che sono lì cadono sul campo il bambino che parlava prima che è mio nipote che gioca tutta la sua famiglia io abito lì loro abitano lì di sopra generazione poi c'è sempre quello che magari però c'è la terra rossa se devo attraversarla mi sporco i piedi però è talmente coinvolto in persone che guai non parlare non dirlo e quindi viene poi un po' a cadere anche la sua opinione magari si c'era da fare una passatoia con il gruppo del tamburello è stata fatta in modo che se devi attraversare il campo non ti sporchi le scarpe però non puoi toccare il tamburello perché è proprio diciamo anche il villeggiante diciamo anche il villeggiante si sente coinvolto i bambini vengono comprano il tamburello vengono lì giocano con i bambini del paese diciamo è una cosa ancora sentita rispetto a quello che sono i social li vediamo anche al campo col telefonino però un pochino lo mollano diciamo e per noi questo è una conquista perché vediamo questi ragazzi sempre attaccati a questo telefono e basta se riusciamo a tenerli qualche ora all'anno lì magari riescono a fare una vita un po' diversa diciamo grazie 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 mille allora il net come abbiamo sentito prima non è riuscito ad arrivare molti di voi lo conoscono immagino una pratica che ha origini veneziane la voga in piedi vediamo i vogatori che hanno questa caratteristica posizione non vogano da seduti vogano in piedi ed è una caratteristica della voga che arriva dalla laguna questo detto da loro stessi io ripeto le loro parole non non altro e non solo ma il net è una una modifica di una barca caratteristica da laguna che si chiama mascareta infatti quando sono venuti con con questa imbarcazione a Verona nel nel 2020 ad esporla non a navigare ad esporla in in strada noi l'abbiamo messa a fianco proprio della della mascareta per vedere le differenze che da un da un profano come me non esistono però insomma perché barca le barca e quindi così ma invece no ci sono ci sono delle differenze che sono state le modifiche fatte negli anni per adattare l'imbarcazione ad un ad un'acqua diversa da quella della laguna e e comunque insomma c'è questa questa linea da 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 rimarcare insomma perché sia la voga sia il tipo di barca risale risale ad un periodo dove Venezia era presente anche sul sul lago di Iseo un po' lo stesso ragionamento si potrà fare anche ne approfitto per con 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 la Bissa ma poi ne parleremo poi quando sarà quando sarà il il turno abbiamo visto nel nel breve filmato di prima che l'allenamento che sono riusciti comunque a fare anche in periodo di pandemia dove non si poteva andare in acqua sono riusciti a modificare l'allenamento attaccando un pezzo di palo ad un muro e simulando l'azione della remata quindi penso che questo sia uno dei casi più chiari di come la passione la passione va ben oltre le limitazioni del che possiamo avere di andare in un luogo piuttosto che in un altro io finirei finirei qua ci sono tutte lì vedete chi riesce a leggere legge perché siamo un po' in ritardo adesso facciamo questa pausa caffè poi riprendiamo subito con il resto grazie adesso prima di iniziare di nuovo i lavori mi piace farvi raccontare dove siamo perché noi abbiamo scelto di essere qui non a caso non perché cercavamo uno spazio funzionale dove ci fosse anche la parte di ristorazione e come dire un'attrezzatura per sala convegni abbiamo voluto proprio da associazione giochi antichi cercare un luogo a Milano che fosse rappresentativo anche della storia di questa città e sia dal punto di vista della cultura enogastronomica sia dal punto di vista anche storico sociale quindi io adesso invito con grande piacere Angelo che è il patron dell'osteria del treno a raccontarci un po' che cos'è questo luogo buonasera a tutti anzi buongiorno buongiorno e benvenuti allora dove siamo intanto siamo tra i primi sale primi saloni del movimento per l'italiano del fine ottocento questo spazio deve essere innovato per un maggio 1898 e per qualsiasi milanese è un'altra tragica perché è la strage di Baba Beccaris che ha cannonato la popolazione scambiando una manifestazione di richiesta fondamentalmente di pane perché c'era di essere in piena miseria per una rivoluzione ha cannonato e ha fatto dei disastri colossali e questo spazio doveva essere inaugurato per maggio 1898 e Baba Beccaris ha impieto l'inaugurazione perché secondo lui luogo di sovversivi questo spazio cos'è? è l'emanazione di una delle prime forme di organizzazione del movimento operario italiano che sono le società di mutuo soccorso che è nata nel 1877 questa società che si chiama Cesare Pozzo e era una delle prime forme di organizzazione dei lavoratori ma anche una delle prime forme di organizzazione diciamo così di democrazia economica perché tutti lasciavano una parte del loro stipendio e poi decidevano insieme come usarlo per il figlio che non stava bene per il figlio che doveva andare a scuola per un'avvertenza perché allora questi che l'hanno fondata erano macchinisti e pochisti delle ferrovie dello Stato che sono un po' l'aristocrazia operaia cioè quelli che avevano una grande professionalità perché guidare un treno l'ora era più difficile guidare un jet intercontinentale oggi perché non c'erano i computer e i supporti lì dove cavate per conto suo lì che ne ho le storie cioè devi trovare il sistema e di venerne fuori da un problema per cui era tutta gente per l'epoca molto molto una rispettiva operaria molto competente e molto consapevole del proprio lavoro e qui si sono creati questo spazio che è particolare perché è un'architettura di origine industriale austriaca del fine ottocento queste colonne qua purtroppo sono collocati in plinter purtroppo per me perché sotto qua non ci sono non ci sono le cantine sono collocati in plinter di cemento e portano cinque piani e qui è una struttura molto particolare e se la sono fatta anche bella ci sono queste colonne in ghisel il blacotto in ferro battuto i pavimenti madreperrati che li ha rifatto ma seguendo il loro disegno insomma una struttura che si direbbe oggi polivalente allora cosa facevano? riunioni politiche filo drammatiche popolari feste danzati incontri di pugilato c'era il mio amico Mario Fossati che è un decano del giornino sportivo che mi raccontava che da ragazzino veniva qui per ragazzino sport a fare gli articolini sugli incontri di pugilato che si svolgevano qua insomma un posto si direbbe oggi polivalente ed era la loro sede se lo sono fatta anche bella perché hanno fatto un trittico questo trittico che è uno dei primi esempi di pittura sociale del fine ottocento cioè precedente a quarto stato di dieci anni e il titolo di questo trittico è il lavoro redento che è un'allegoria per cui è interessante molto questo trittico da un punto di doppio storico perché ha un grande significato se collocato in questo spazio essendo un dipinto di memoria storica poi cosa devo dirvi che io di mestiere faccio l'oste e mi pare di capire sono molto contento che avete scelto di venire qua perché mi pare di capire che ci sono delle affinità delle affinità elettive se uno ci pensa un attimo l'anagramma di osteria è storia allora voi siete collocati all'interno di una situazione che è storia nel senso che tutta gran parte dei giochi che voi praticate sono nati in osteria fanno parte del patrimonio popolare fanno parte di giacimetti culturali incredibili che è un disastro se vengono perse e quindi c'è questa affinità che non è una resistenza non adeguata ai tempi che non è questo ma è la consapevolezza di un patrimonio come sono i patrimoni alimentari come sono i patrimoni artistici come sono i patrimoni storici che va solo a guardata perché trasmette proprio sensazioni emozioni criteri di convivialità microstorie ed è tutto un mondo così per cui dato che ho andato a snuffo da Milano ci trovo delle affinità ancora maggiori perché per esempio il concetto dei presidi è un concetto che è molto simile semmai in un altro mondo a quello che voi state cercando di tenere in vita e di realizzare per questo sono molto contento che per questa affinità sono molto contento che avete scelto questo posto poi cosa vi devo dire facendo l'oste vi dico che è il menù della giornata che è un menù molto milanese e quindi in osteria i piatti si condividevano per cui c'è un antipasto da condividere ricco con la lonza tonnata la vecchia maniera milanese con i mundeghili va col biancustà ci mettono anche un po' di dialetto spero che capite con la carne salada tutte queste cose qua poi un risotto alla milanese con un riso particolare perché un riso che viene questa è d'osteria giustamente con un riso che viene coltivato in acqua sorgiva è della miseria San Massimo un vecchio antico piatto che è un giacimento ormai milanese che è il mazzo alla California che è questa California non è la California la California è una cascina che sta dentro di Acore ed è un piatto dell'Accademia della gastronomia lombarda e per finire un amuso al cioccolato grazie a tutti di essere venuti verrò a fare un brindisi con voi dopo grazie Angelo bene riprendiamo i lavori bene grazie grazie per questa spiegazione che specialmente l'ultima parte ne ha fatto venire fame e quindi vabbè insomma è via quindi acceleriamo i tempi allora neanche a farlo opposta la balagrela prego e qui mi taccio perché già molti parleranno terrò i tempi una 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 correzione balagrela non è un gioco di Gianico che è un paese ma è un gioco di un'intera vallata la valle Camonica che ha inizio dopo il lago di Deseo e si conclude sulle Alpi da una parte al passo dell'Aprica dall'altro al passo del Tonale verso il Trentino quindi è un gioco caratteristico di un'intera vallata detto questo vorrei fare un piccolo escursus bravissimo storico anche in riferimento a precedenti interventi per dire che cosa che il gioco della questo gioco della balagrela si aggancia direttamente agli antichi giochi praticati dai romani le cui legioni lo diffusero praticamente in tutta Europa poi coi secoli si è sedimentato in alcune nicchie è presente nell'Italia settentrionale in alcune vallate dal Friuli alla Toscana alla Liguria al Piemonte in Francia e in Belgio ci sono delle nicchie dove si gioca con questo qual è la caratteristica che noi abbiamo tentato di questo che ci teniamo è l'antichità del gioco è l'antichità del gioco il gioco di palmo con la palla piccola e soda piccola e soda che ha subito ecco questo queste cose qui bisogna tenerle presenti ha subito nel corso del tempo alcune mutazioni mutazioni è una parola che è all'ordine del giorno ha subito alcune mutazioni importanti che hanno dato origine a diversi giochi perché poi questo gioco di palmo è stato molto rinanciato dagli umanisti del quindicesimo secolo nella loro riscoperta della cultura antica agli inizi dell'età moderna si è cominciato essendo la palla di cuoio piena soda fa male alla mano nel colpirla allora la prima mutazione importante avviene appunto all'inizio dell'età moderna in cui invece di essere colpita con la mano la palla viene colpita con degli attrezzi fra cui la racchetta il bracciale di legno e lo scanno da qui arriva la schida che si diceva prima la schida deriva la scanno che è un bastone con cui si colpiva la palla la seconda mutazione importante avviene cambiando la natura della palla circa alla metà dell'ottocento col processo industriale di vulcanizzazione della gomma non è più la palla piccola è dura che fa appunto fa male alla mano ma diventa palle più grosse più morbide eccetera quello da inizio anche lì a una serie di altri sport ma noi ci teniamo questa storicità e ci teniamo in modo ossessivo cercando di mantenere le caratteristiche infatti questa questa nostra ostinazione ha anche dei costi perché dalla palla tradizionale dei romani che è questa fatta di cuoio e riempita attraverso tutto un periodo di transizione essendosi perse le professionalità in grado di costruire questa palla abbiamo adottato prima la 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 gomma piena e poi finalmente essendoci non più le professionalità in luogo in grado di costruire la palla dagli amici della palla e in Toscana siamo riusciti a riprodurre questa che ha le medesime caratteristiche ecco e questa però è una palla che costa all'incirca 10 euro ogni esemplare calcolate che siccome il posto poi torno su questa questione il gioco si pratica all'interno dei centri storici un altro pilastro cui noi non rinunciamo nel modo più assoluto si pratica all'interno per cui queste palle finiscono sui tetti e c'è una dispersione enorme per cui ogni partita magari perdi 10 palline su 100 euro è un costo importante per il nostro gruppo e ci teniamo dicevo in modo ossessivo alla storicità perché senza memoria storica non si va da nessuna parte e un cronista locale ha definito pensando di essere geniale il gioco della vala crela il tennis dei poveri io mi sono indignato e l'ho corretto immediatamente dicendo che semmai è il tennis che è la balla dei ricchi se non abbiamo presente poi questi passaggi ecco prima non ci si spiegava da dove arrivava la schida basta leggere Antonio Scaino che è l'autore per eccellenza nel sedicesimo secolo di un trattato sui giochi sferistici e lì si spiega chiaramente che deriva da Scanno che è un bastone dove si colpiva la palla e quindi schida probabilmente il nome di Alettale di Scanno venendo ai giorni nostri allora analisi rassicuranti non cambia niente allora sarà la società liquida sarà il globalismo sarà la pandemia quello che volete a voi i giochi di strada la socialità implicita nei giochi di strada ha avuto delle grandissime sofferenze già era in sofferenza prima per tutti questi fattori che dicevo prima la società liquida cioè senza memoria storica globalismo i ragazzi che non parlano con i genitori ma stanno con gli aggeggini i genitori che guardano la televisione invece di parlare con i figli ci sono delle mutazioni culturali che ci portano a nuotare controcorrente facciamo fatica a mantenere quella che è stata una tradizione plurisacolare dei giochi di strada con dei paletti con dei paletti ben precisi poi le pianto lì se non andiamo ora scusate grazie Franco ultima cosa paletti ben precisi il linguaggio deve essere il dialetto della zona è un lessico legato al gioco è il dialetto della zona si parla di dialetto si gioca nei centri storici e non e non si defletta dall'uso appunto degli strumenti tradizionali la picciol palla o palla parva come la chiamavano e appunto il teatro di gioco deve essere il centro storico con la presenza delle persone perché perché la differenza fondamentale fra sport e gioco è questo che il gioco che il gioco che il gioco ha queste valenze simboliche questo coinveggimento sociale che lo sport non ha grazie va bene grazie Franco grazie grazie non so se scusa Sofia no dicevo siccome c'è una persona in collegamento con noi che ci sta ascoltando se potete tenere il microfono vicino alla bocca perché così ci sente meglio era questo il discorso si sentiva poco perché avevi prego 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 Silvano la fortuna di avere Franco e la fortuna che il tempo se lo mangia tutto lui e quindi a noi ce ne resta poco e quindi siamo meno in imbarazzo siamo meno in imbarazzo però a me rimane il compito di ringraziare di ringraziarvi per l'ospitalità e per averci invitato e ringrazio anche tutte le comunità che ci sono qua che ci appoggiano e come si possono chiamare colleghi in questo caso e speriamo di riuscire a unire presto le nostre ambizioni di giocarle di giocarle insieme e detto questo io farei solo una breve breve intervento sul discorso come abbiamo passato la pandemia pandemia come tutti l'abbiamo passata molto male però i due o tre che lavoravamo sempre abbiamo lavorato in casa e abbiamo unito l'utile col dilettevole facendo cosa facevamo degli spiedi in casa e visto che gli anziani non potevano muoversi o poca gente poteva muoversi abbiamo delle attività che riuscivamo a muover noi tre riuscivamo a muoverci abbiamo portato gli spiedi a tutti gli anziani e abbiamo fatto cibo da sporto legale non legale ma dovrebbe essere stato legale perché l'hanno apprezzato tutti l'hanno apprezzato tutti bisogna raccontare che ogni volta che c'è il gioco c'è anche il ciclo sì per noi il terzo tempo il terzo tempo non è come quello da Rubin il nostro terzo tempo dura molto di più della partita perché di solito la partita un'oretta un'oretta e mezza tre ore poi le gambe vengono a far male e invece il terzo tempo quando è buio e poi è buio ancora questo è il terzo questo è il terzo tempo adesso c'è la luce ma poi il terzo tempo va bene anche al buio comunque quindi se venite a trovarci in valle partendo da Gianico fino abbiamo i sei paesi che uniscono ormai tutta la valle da come diceva Franco dal lago a Edolo siamo arrivati a Capodiponte abbiamo fatto delle partite a Capodiponte l'ultima l'ultima fatta e quindi cerchiamo di il problema di unire i ragazzi qualcosa abbiamo perso durante la pandemia però al riavvio ci siamo trovati una squadra molto giovane e puntiamo su di quella che trainerà poi gli altri perché se vedono poi che c'è qualche giovane dovrebbe essere una calamita che tira che tira gli altri e adesso il nostro obiettivo è di spronare appunto i giovani grazie niente solo un appunto che prima altre comunità dicevano di spingere sulle scuole noi questo progetto delle scuole l'abbiamo portato nel 2019 in collaborazione con la comunità montana dove ci siamo impegnati nell'arco dell'anno scolastico i vari paesi che fanno parte della comunità montana di Valle Camonica alcuni dei nostri giocatori andavano spiegavano il gioco e abbiamo cercato di insegnare i bambini mentre Franco nel frattempo aveva scritto anche il libro portavamo il libro con addirittura anche l'album delle figurine abbiamo fatto parecchie attività nelle scuole e cercheremo di portarle avanti ancora grazie 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 ringrazio anche ringrazio Dennis per aver compilato il formulario perché se fosse stato per Silvano sarese ancora qua che domanda grazie 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 che invito è una delle comunità che è completamente ha dato una svolta proprio qualche mese fa alla propria organizzazione con un gruppo di persone nuove di generazione molto più giovane rispetto alle precedenti e vi dirò che avevo dei seri dubbi lo dico anche a voi anche noi dei seri dei seri dubbi se contattarle o meno perché le ultime volte che contattavo le persone che effettivamente hanno collaborato con noi nel primo anno di lavoro abbiamo sempre trovato una stanchezza e quello che ci dicevano era non ce la facciamo più non c'è più nulla non c'è più e ero veramente in dubbio se chiamare quando ho chiamato che mi hanno dato il numero di telefono del nuovo presidente di Stefano Fontana e ho detto porca la miseria ha avuto vede che sta una svolta che sta la svolta e la svolta c'è stata e abbiamo qui la nuova la nuova organizzazione che si presenta grazie salve allora intanto ringrazio invece voi per l'invito il posto è perfettissimo il posto è bellissimo secondo me si è sentita quell'atmosfera che che ci ha raccontato l'oste prima quindi avvalora ancora di più la la felicità nostra di essere qua perché capiamo che siamo con un gruppo di persone che la pensano un po' come noi e con cui ci si può anche divertire chiedo scusa perché normalmente quando parlo siamo sempre abituati a avere il nostro salame il nostro bicchiere di vino quindi sono un po' emozionato un anno fa nel stava succedendo iniziava a girare in paese questa notizia che il circolo stava cessando l'attività noi forse invece aiutati dalla pandemia nel senso che ci siamo trovati in un periodo dove i nostri normali impegni erano un pochettino minori abbiamo anche in maniera incosciente accettato di raccogliere questo testimone il problema nostro è che il testimone l'abbiamo trovato per terra cioè nessuno ce l'ha passato nessuno ci ha comunicato tutte le cose che ha vissuto il circolo quindi purtroppo per quanto ci riguarda abbiamo tutta una storia da ricostruire secondo me siamo stati bravi perché essendo un importante cambio generazionale quindi noi siamo molto più giovani di quelli che c'erano prima abbiamo ovviamente pensato che non potevamo in tutto e per tutto riproporre quello che era il circolo prima quindi abbiamo portato una nostra identità con anche una serie di attività che abbiamo iniziato a proporre noi però l'abbiamo sempre fatto pensando che fosse importante e fondamentale non dimenticare la storicità del posto quindi una delle cose su cui ci stiamo impegnando è quello di riportare in voga il gioco dei birilli il primo anno l'abbiamo impegnato fondamentalmente per far sì che il posto rimanesse aperto anche perché per nostra natura conoscevamo il posto più per le polpette sinceramente che per il gioco quindi ci siamo dedicati fondamentalmente a quello però abbiamo appunto pensando quanto fosse importante non perdere la memoria e la storicità abbiamo iniziato a creare le nostre iniziative modellandole anche attorno alla storia l'iniziativa forse più apprezzata e che ci ha portato anche dei buoni risultati siccome noi siamo legati all'ambiente della musica e così via abbiamo creato una serata che abbiamo chiamato il birillo elettronico dove proponevamo dei dischi e al contempo si giocava i birilli quindi abbiamo creato abbiamo iniziato a mettere le basi per un neanche un cambio generazionale però per la creazione di un nuovo gruppo di persone che possa avvicinarsi a questo gioco l'abbiamo fatto secondo i nostri canali e al momento non ancora con canali istituzionali e così via insomma e boh speriamo di intanto siamo molto interessati e ci sta piacendo molto questa giornata siamo interessati sia per quello che ci state raccontando dei vostri giochi sia per i luoghi geografici che non vi nascondo ci hanno già ispirato tante idee su cosa andare a mangiare e a bere quindi speriamo speriamo di venirvi a trovare presto speriamo di incontrarci ancora e speriamo che per quanto ci riguarda possiamo ripresentarci qua iniziando a raccontare la nostra storia di Birilli grazie grazie Stefano se volete dire no se volete dire qualcosa non so andiamo ancora due minuti se volete ciao non so cosa dire perché anch'io sono un po' emozionato e vedere questa attività qua è veramente una cosa interessante bella ci ho giocato è bello però non posso dire niente oltre a questo perché sono un esperto non ho mai giocato però mi piace portarlo avanti e avere un futuro anche come attività e anche come sport creare anche una come si potrebbe dire una squadra e poter giocare e girare anche per regione aggiungo solo chi ha nelle altre riunioni ha conosciuto chi ci ha preceduto avete notato che effettivamente la componente storica e i racconti che avevano queste persone che giocavano sono forti 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 infatti è un po' un nostro rammarico quello che non ci sia stato il passaggio ma che ci sia stato proprio uno stacco perché loro erano veramente stanchi e il gruppo negli ultimi anni appunto come dici tu si era andato a sciogliere speriamo adesso facendo vedere che stiamo ridando rinfa e così via che anche loro ritornino e che ci possano raccontare questa cosa perché io credo io sono un elettronico credo molto nei social e così via però secondo me infatti mi ha meravigliato il fatto che alcune associazioni attraverso i social abbiano trovato dei giocatori anche io pensavo che fosse più solo un veicolo di comunicazione però io penso e soprattutto la pandemia ce l'ha insegnato almeno personalmente me l'ha insegnato che abbiamo bisogno di convivialità abbiamo bisogno di contatto e così via quindi quello che noi stiamo cercando di fare e che faremo nei nostri prossimi appuntamenti che stiamo iniziando a proporre alla cittadinanza sono tutti appuntamenti di racconto cioè dove recuperiamo queste cose assieme poi al gioco che secondo noi siamo la birillistica e il gioco deve essere una componente fondamentale anche perché ci diverte poi è molto legato non solo anche al bar cioè nel senso effettivamente effettivamente c'è niente da fare il fatto di ritrovarsi mangiare bere qualcosa e così via anche utilizzando la scusa di un gioco diventa un cerchio cioè diventa un gruppo di energia che sta bene insieme insomma c'è niente da fare grazie grazie a tutti grazie a tutti e arrivederci alla prossima allora adesso non so effettivamente se saltare questo gruppo perché parlo della comunità della Ciaramela non so se saltare o comunque invito solo Moreno a venire perché se viene Pierangelo poi dobbiamo star qui per una settimana intera no dai Pierangelo scherzo dai su ma dai allora loro sono venuti leggermente in ritardo e non hanno sentito sto parlando seriamente stavolta non hanno sentito la lettura della della lettera del dell'assessore che tra le varie cose nominava proprio Mede e la Ciaramela quindi qui abbiamo Mede e la Ciaramela che ci spiegheranno un po' questo stranissimo gioco ma non lo so fatto quei bastoni bu buongiorno a tutti beh la Ciaramela è sostanzialmente il gioco della lippa il gioco della lippa è un gioco che è conosciuto un po' da tutti è giocato un po' in tutta Italia in mezzo Europa anche nel nuovo mondo abbiamo avuto combattimenti con le squadre cos'era del Messico mi sembra sì perché Mede e perché la Ciaramela è un gioco dei nostri genitori dei nostri nonni è un gioco che si è andato a perdere dopo la seconda guerra mondiale e ha trovato una nuova vita una nuova linfa a Mede quando nel 1981 è stato creato organizzato il primo paglio in nome della lippa quindi la città la cittadina una cittadina di 6500 abitanti che è posta nella parte occidentale della provincia di Pavia incuneata dopo il Ticino incuneata praticamente nel Piemonte anche se fa parte della Lombardia come zona la Lomellina e appunto è stata la cittadina è stata divisa in rioni dieci rioni che si contendono il paglio il paglio è uno standardo con i colori della città con rifigurato la ceramela quindi questa questa lippa questo lippino che è praticamente un fuso simile a un fuso di legno lungo mi sembra 18 centimetri con un diametro di 2,5 o 3 centimetri mentre il bac cioè il bastone che serve per la battuta è un bastone di 50 centimetri con un diametro di 4 queste sono quantomeno le dimensioni che si sono state imposte e sono state date nella regolamentazione di questo gioco per dargli un po' di uniformità le essenze linee che vengono utilizzate per l'attrezzatura variano a seconda della sensibilità dei singoli giocatori quindi si passa da legni più o meno teneri a seconda di come uno trova la disponibilità del legno oppure di come piace battere e giocare alla lippa quindi dal 1981 si è creato questo si è riportato in essere diciamo così questo evento con un paglio e quindi con la partecipazione di tutta la città creando anche una coreografia che si sviluppa nell'arco di diverse giornate contigue al momento fulcro al momento topico che è appunto la celebrazione del paglio che viene giocato all'interno del campo sportivo e quindi su una superficie erbosa con le battute iniziali che vengono effettuate utilizzando un un asse di legno per poter alzare la palla perché diversamente sarebbe impossibile ed è un gioco appunto che viene giocato in questo ambiente abbastanza ampio dove si limitano le possibilità di creare dei danni perché è un gioco che inizialmente veniva giocato all'interno dei paesi delle corti delle aie ma con attrezzi molto più piccolini meno invasivi adesso sarebbe impossibile il nostro territorio un territorio dove non è possibile giocare la palla figurarsi giocare la lippa e quindi si deve cercare per forza uno spazio esterno uno spazio esterno che in questo caso è stato individuato nel campo sportivo ma che in altri momenti quando si organizzano eventi all'interno della città si cerca di individuare degli spazi un po' di periferia dove appunto si evita di creare di dare maggiori danni oltre a quelli che normalmente succedono è un caso ma mi sei venuto così questo è uno dei nostri giocatori uno dei più rappresentativi giocatori di lippa noi ci scontriamo spesso e volentieri con Verona nel senso che siamo stati invitati la prima volta come diciamo aspetto forse coreografico più che altro i primi anni in cui è nato il Tocatì Mede era stata invitata proprio perché era diciamo la città che aveva il paglio più vecchio sul gioco della lippa è stata invitata ed erano andati a Verona avevano partecipato a questa iniziativa i giocatori del paglio con i vestiti del proprio rione quindi con i vari colori della città poi pian pianino il gruppo si è diciamo unito in una forma diversa e dal 2007 si è cominciati a parlare del diciamo si è cominciati a parlare dei Fieu della lippa come gruppo che rappresenta come ragazzi i Fieu appunto indica figli ragazzi della lippa quindi un piccolo gruppo di giocatori che giovani appassionati di questo gioco dal 2011 nasce ufficialmente l'associazione Fieu della lippa dove Pierangelo Boccalari è il presidente ed è diciamo l'uomo guida l'uomo faro di questa di questa associazione e come Fieu della lippa abbiamo avuto modo di dialogare da tanti anni ormai con con Aga con Paolo con Giuseppe con tutti i giocatori che fanno parte diciamo così di questo mondo dello scianco che è molto simile al mondo della lippa con il quale condividiamo momenti molto sentiti soprattutto dietro una buona birra o lo space e con loro diamo sempre vita delle battaglie abbastanza interessanti l'ultima quest'anno per noi l'unica tra l'altro quest'anno sfida che abbiamo potuto fare è stata a Verona con Tocati dove un'altra volta abbiamo perso succede abbastanza spesso ultimamente con voi durante il periodo del Covid quindi in questi due anni le nostre attività sostanzialmente sono state molto mortificate perché pur potendo continuare gli allenamenti quindi pur potendo giocare tra di noi non abbiamo avuto modo di poter svolgere il paglio negli ultimi due anni proprio per l'emergenza pandemica ma non tanto legata all'imposizione diciamo così da parte del da parte statale quindi il nostro paglio si svolge a metà settembre e a metà settembre non c'erano delle regole limitative o troppo ostative per lo svolgimento della manifestazione ma sono stati i rioni stessi che non se ne sono sentita per diversi motivi di mettersi in gioco proprio per questo questo tipo di calamità che ha colpito un po' tutti e la cosa ovviamente ci ha lasciato un pochino così un po' abbattuti perché è l'evento simbolo che dà continuità a questo tipo di gioco e vederlo un attimino mortificato dalla mancanza di voglia da parte di una parte degli attori perché i giocatori ci sarebbero anche stati ma non c'era tutto tutto l'apparato del rione che porta avanti il discorso dell'organizzazione del palio di tutto quello che che viene fatto speriamo nel prossimo anno di poter trovarci in una situazione diversa abbiamo avuto comunque il sostegno da parte del comune che ha sempre in tutti questi anni e anche in questo periodo ha sempre sostenuto ha sempre aiutato l'associazione e aveva dato anche la disponibilità ovviamente per l'organizzazione del palio e stiamo cercando con fatica di inserirci all'interno del tessuto scolastico con la illustrazione e la divulgazione della storia e dei giochi e del gioco fino all'anno scorso avevamo trovato qualche difficoltà il dirigente scolastico non era molto attento a questa non era molto sensibile diciamo così a questo tipo di innovazione chiamiamola a livello scolastico l'attuale dirigente scolastico che è subentrato quest'anno invece sembra molto più propenso e Pierangelo nella prossima primavera se non ci sono controindicazioni dovrebbe cominciare appunto alla divulgazione quindi a cercare di avvicinare quel tessuto di ragazzini che già normalmente vengono coinvolti durante la manifestazione del palio perché nelle serate preparatorie all'evento del gioco si svolge un piccolo palio dei ragazzi dove ragazzi delle scuole medie si sfidano tra di loro con la Lippe e quindi si cerca di portare avanti di trasmettere e di unire diciamo questa età che è molto giovane con quella invece dei giovi dei ragazzi dei giocatori del gruppo dei dei fila Lippa che sono quasi tutti maggiorenni ed è un gruppo misto possono giocare maschi e femmine quindi non ci sono divisioni noi giochiamo meglio però grazie Moreno grazie volevo no me stesso no ecco quello che ha detto Simona sono un po' invidioso perché quando giocano al tamborello la popolazione è addirittura alle finestre noi a Medes si può appena appena girare l'angolo mi auguro mi auguro che la cosa vada avanti sempre in positivo ecco io ai Fiori della Lippa come ha detto il Moreno ho dato anche la casa casa mia è sede dei Fiori della Lippa perché c'è un po' di posto eccetera eccetera ma come dicevo non so l'amico l'ha detto se tutte le sere fai la grigliata tutte le sere hai Fiori della Lippa così quando non c'è ma c'è la riunione queste riunioni ragazzi ma c'è da bere sì allora vengo perché vorrei da loro qualcosa di più qualcosa di più per andare soprattutto a Verona arrivare a di colpareggio invece veniamo sempre via da Verona con le ossa rotte nonostante che siamo lì perché loro non lo so per uno ci battono sempre guarda che roba ma perché ma che consegna bene a giocare no? ringrazio comunque sempre l'amico Paolo e Giuseppe Giacom per il costante invito che annualmente ci rivolgono noi partecipiamo sempre molto volentieri ecco e niente grazie a tutti grazie Valentina grazie a tutti ecco grazie grazie Pierangelo grazie Moreno alla prossima grazie facciamo due tiri facciamo due tiri dai su che fiamo due tiri allora giocatore della Morra giocatore della Morra da Barbariga Brescia Brescia buongiorno a tutti a tutte le comunità presenti anche alle autorità presenti visto che abbiamo rappresentanti di regione Lombardia e io vi spiego un po' la Morra io sono presidente di un'associazione di 140 iscritti sono vice sindaco di Barbariga un paese del casoncello greciano perché qua ci sono persone che hanno parlato di mangiare abbiamo 100 donne che lavorano a produrre casoncello di Barbariga e 5 punti vendita in un paesino di 2000 abitanti un indotto di 20 milioni di euro mi fermo qui e la Morra la Morra noi l'abbiamo scoperta dai nostri papà quando la giocavano nelle osterie che era proibita e è proibita ancora tuttora noi siamo freschi dal quindicesimo campionato italiano di moda non perché io ho vinto quest'anno perché non importa questa cosa io ho vinto il singolo il mio amico e l'altro che non è venuto su in coppia e a Terna siamo arrivati i secondi erano in quattro erano in quattro però e siamo stati molto felici di essere andati in Val Pellice a Bobbio Pellice e Villar Pellice abbiamo fatto un weekend bellissimo ospitati da Dio per me è stato il miglior campionato italiano da 15 anni a questa parte per l'ospitalità e dalle persone perfino la sindachessa che giocava a morra dalle donne che facevano il trittico a giocare a 3 a 3 a morra è stato bellissimo se volete andare a vedere ci sono sui social e così le vedete vorrei dire questo io rappresento la Lombardia come associazione alla Compagnia dell'Amore troviamo giocatori in Val Cammonica Val Bremvana Val Trompia Val Seriana perché perché dico in valle noi siamo della pianura perché siamo tra Manerbio e Orsi Nuovi siamo partiti nel 2007 con dei presidenti di altre regioni ci siamo trovati a una gara vi dico a Ulla e a Marina di Massa che allora c'era il ministro Ferri quello all'alta velocità eravamo andati perfino a Bruxelles per liberalizzare la morra perché tutt'oggi noi abbiamo problemi a giocare alla morra l'abbiamo fatta come giochi tradizionali per poterla giocare nelle feste paesane per far vedere i giovani il gioco della morra non quello delle macchinette a mangiare soldi quello della morra però è proibita tuttora perché dico questo perché oggi abbiamo presente la signora che è una rappresentante di la Giove Lombardia l'assessore Galli io le seguo parecchie volte in videoconferenza che mi ha mandato il messaggio anche oggi che dal trenta in poi ci sono sette conferenze per la cultura questa cultura anche questa se lei vuole rappresentare noi può sicuramente dirlo l'assessore di cercare di liberalizzare la morra perché perché una volta mettevano il coltello sotto il tavolo perché non avevano i soldi di pagare la bottiglia di vino oggi noi beviamo tutti acqua non siamo mai ubriachi non litiga più nessuno poi i soldi per pagare la bottiglia ce li hanno tutti finito qua noi ci troviamo facciamo 20 o 30 gare in un anno a gennaio facciamo il nostro calendario e andiamo a giocarlo sempre magari nella fiera dell'olio di marone in una fiera del casoncello barbariga in tutte le varie zone perché se la facciamo nei bar arrivano i carabinieri ci bloccano invece nelle sagre paesane c'è sempre pieno di gente così le dico una cosa che mi è rimasta impressa al Tocatia Verona due anni fa eravamo in strada a giocare con persone intorno ai tavoli insieme ai bambini arriva un signor anziano viene lì e parla straniero io non capivo perché io sono non ho studiato molto però mi disimpegno abbastanza visto che non capivo mi ha fatto vedere sul telefonino che anche in Croazia giocavano a morra per dire perché è nata dagli antichi egitti dai romani dai nostri soldati che giocavano nelle trincee per scardarsi durante le grandi guerre e tuttora io sono andato nelle scuole ma lei che era rappresentante di Roma sa quante domande ha dovuto fare per poter entrare in una scuola a far vedere i bambini che saltavano sul tavolo quelli della terza elementare tanto erano felici anche le bambine prima la direttrice dopo il preside dopo la maestra arriviamo là perfino come si dice quella che pulisce le scuole non ci fa entrare come sembrava che andiamo non adesso in tempo di pandemia parlo di 3 o 4 anni fa e ti dico che i bambini erano felicissimi a vedere giocare che ancora oggi che hanno 15 anni quelli della terza elementare di qualche anno fa mi fermano per strada e vogliono farmi vedere a giocare alla morra questo è il nostro scopo di portare avanti io sono venuto molto volentieri ringrazio Valentina Aga e Avigo che ci invita sempre al tocco a ti noi quando possiamo ci siamo sempre però vorremmo un po' di sostegno morale anche della nostra regione perché questo gioco non è come la Valla Crela o le altre valle che ho sentito stamattina giustamente locali questo è un gioco nazionale perché noi facciamo un anno il campionato italiano al nord un anno al centro un anno al sud ci invitano anche in Sardegna anche in Francia a giocare alla morra ringrazio tutti se vi ho distrutto sono stato lungo se vuol dire qualcosa il mio amico ora vi ha parlato due tina non mi guarda tre pali grazie 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 della testimonianza ora chiamo Ludovico Patelli al presentare il gioco del Pirli è uscito un paio di volte nel in questa giornata questa attività e adesso finalmente vedremo cos'è perché insomma non so voi ma io non so di cosa stiamo parlando non volevo parlare del Pirli ah no? beh parti da lì dai no nel senso che gli stimoli di questa mattinata intanto grazie grazie Aga e l'invito per oggi gli stimoli di questa mattina sono stati notevoli e quindi ho deciso di parlare poco del Pirli se non per darvi l'informazione è un gioco da tavola viene dal Medioevo noi abbiamo diversi esemplari circa sei una è una realizzazione del del 1790 una del 1930 poi gli altri sono tutti più recenti che abbiamo scovato questi più vecchi in osterie o in soffitte e gli altri li abbiamo realizzati per divulgare e far conoscere il territorio quindi io volevo tornare un po' alla tipologia di chi siamo e perché ci siamo imbattuti nel gioco noi siamo una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che opera in Valle Cavallina che è una valle di 110 km quadri con 16 comuni quindi 35.000 abitanti piccoli comuni 1.000 abitanti 2.000 abitanti un comune capoluogo che è un po' più grande degli altri ma che sono comunati dalla stessa storia dalla stessa cultura dalla stessa attività lavorativa eccetera la cooperativa si costituisce nel 99 quindi parliamo di 22 anni fa e tra le finalità c'era quella di recuperare saperi e trasferirli alle generazioni future per rendere quel territorio sostenibile dal punto di vista della vita cioè del viverlo dentro ci stava un aspetto culturale oltre a fare l'attività agricola che riprendeva determinati lavori oltre che a fare l'attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come era norma e uso nelle comunità piccole che anche la persona svantaggiata venisse inserita regolarmente in un ciclo produttivo quindi abbiamo inserito dentro i nostri scopi sociali questo c'era anche una sezione culturale e dove abbiamo pensato che oltre a recuperare storie siti ambientali archeologici castelli eccetera ci fosse anche il gioco dal 99 ad oggi ne abbiamo siti diversi il Pirli è quello più eclatante che è diventato poi conosciuto perché è anche quello più diffuso ma si gioca la bala si gioca lo scianco da noi si chiama l'IP normalmente c'è il Bacol c'è il 48 c'è il lancio del tronco tutti i giochi che prendono spunto dalle attività e dagli attrezzi di lavoro quindi riscoprendo il lavoro abbiamo riscoperto il gioco delle persone che tagliavano i boschi delle persone che portavano gli animali al pascolo delle persone che facevano attività in paese l'osteria il Pirli era un gioco che stava in osteria tutti questi giochi ad esempio sono entrati all'interno sempre della sezione cultura della cooperativa l'innesto l'innesto sta a significare innestare forze nuove su un franco un porte innesto ben radicato nel territorio nella cultura nella tradizione nei saperi locali per tramandarlo e quindi forze nuove per tramandarlo alle generazioni future il tema è la comunità anche comunità territorio possibilità di resistere su questi territori ho sentito i rappresentanti regionali la lettera di Galli tutto bello le comunità devono contribuire alla salvaguardia eccetera guardate che però è faticoso e non solo è faticoso è importante che vengono accompagnate e sostenute ma non solo a parole a convegni a incontri eccetera vanno sostenute economicamente perché se il gioco parliamo di gioco oggi è un elemento che contribuisce a mantenere comunità su un territorio e lo è questa ha bisogno di essere sostenuto ha bisogno di avere incentivi parliamo di comunità le comunità lo praticano ma chi porta avanti questi ragionamenti scusate il termine magari desueto sono delle avanguardie noi tutti siamo delle avanguardie e queste avanguardie molte volte si trovano quasi in minoranza perché rompono i ventri perché fanno rumore la sera perché disturbano il sonno pomeridiano non lo so cioè vanno sostenute anche attraverso norme e regole che permettono la prosecuzione e la permanenza di una comunità su un territorio anche attraverso il gioco chiudo questo qui era l'appello generale il gioco in generale è strumento di coesione sociale è strumento di creazione della comunità va sostenuto salvaguardato va accompagnato con norme e sostegni economici l'altra cosa è quello che si sta facendo quello che sta facendo aga noi ci conosciamo da vent'anni no paolo purtroppo o per sfortuna sì la coesione e la solidarietà tra di noi il ragionare tra di noi il costruire nuove opportunità nuove soluzioni nuovi percorsi eccetera ci rende più forte continuiamo in questa direzione cioè se ci scambiamo anche in situazioni come queste come il Toccati o con incontri bilaterali se non in altre situazioni prima parlavo con quelli di Mortirolo dicevano ah vi veniamo a trovare poi c'è tutto l'aspetto enogastronomico dietro che fa parte di questo ulteriore elemento di costruzione della comunità e di sopravvivenza di territori guardate che i territori si stanno spopolando noi nasciamo allora come cooperativa sociale per fermare lo spopolamento recuperare attività tradizionali innovandole cioè rendendo alcune attività più consone alla sostenibilità e alle necessità di oggi ma cercando di mantenerle sul territorio l'abbiamo fatto per un po' di tempo ma il tempo il covid poi non ne parliamo ha bloccato davvero una serie di processi che avevano iniziato a camminare da soli hanno regredito parecchio e ci ritroviamo che ad esempio lo spopolamento di alcuni territori di mezza costa verso il fondo valle è inesorabile se non si sostengono queste situazioni davvero perdiamo un patrimonio inestimabile della cultura dei nostri dei nostri paesi della nostra Lombardia non la tengo lunga perché siamo già in ritardo grazie alla prossima avremo modo di parlare successivamente ci sono ci sono i tempi per alla fine di tutto abbiamo un bel po' di tempo per il dialogo hai perso un foglietto Ruzzolone Ruzzolone Milano Ruzzolone Milano eccoci 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 allora uno dice ma è Ruzzolone vabbè adesso vedremo cos'è penso che la prima domanda che viene da fare è ma per chi conosce un po' la realtà dei giochi di sport tradizionali dicono ma è Ruzzolone è un'attività degli appennini sono molti forti sugli appennini modenesi si gioca in tutto l'appennino da Modena fino alla Toscana e anche più in giù ma che cosa cosa ma cosa cavolo che fa a Ruzzolone a Milano uno dice se domanda adesso sentiamo la risposta saluta a tutti io abito a Milano diciamo così dal 65 sono di origine dell'appennino modenese quindi il gioco del rusolone qua in Lombardia è cominciato circa un 70 anni fa dove gli emigrati dall'appennino diciamo così non solo modenese ma fino Perugia e via così che venivano a fare i portinai a Milano che venivano a fare i guardiani che i camerieri e via così hanno cominciato a giocare qua in Lombardia perché da noi è un gioco tradizionale sviluppato su tutto l'arco dell'appennino fra Reggio e diciamo Viterbo Roma e via così si gioca dappertutto sono circa 3000 giocatori quindi iscritti adesso al CONI siamo stati obbligati circa un quattro anni fa come società sportiva sportive a iscriversi anche al CONI come giochi tradizionali e via così il gioco a origine antiche etrusche si sono trovati degli affreschi con un giocatore che aveva un disco in mano nella posizione di lanciatore di lanciare questo disco questo disco era una forma di formaggio perché il gioco è iniziato come tiro del formaggio i pastori dell'appennino praticamente si vede per sfida per hanno cominciato a giocare cioè loro naturalmente i pastori producono formaggio con queste formaggelle molto diciamo così stagionate hanno cominciato a sfidarsi lungo le strade di campagna nei boschi dove loro pascolavano le pecore gli animali e via così quindi si è tramandato con la transumanza è iniziato diciamo così nell'Etruria poi siccome si spostano durante le stagioni e via tutto l'appennino praticamente ho detto fino a Reggio Emilia così è diciamo in voga questo gioco qua che poi si è trasformato con l'andare dei tempi fino diciamo così al la prima guerra mondiale alla seconda si giocava col formaggio sempre tutto lungo le strade lungo le strade di campagna e via così dopo verso il 27 1927 hanno cominciato a costruire in legno cioè siccome le forme o si rompevano o si e via così hanno cominciato a costruire un disco di legno che però non è come questo era un legno ricavato da una tavola da un tronco e lo tiravano lungo le strade e via così il gioco cosa consiste chi aveva più forza chi tirava andava più lontano c'era una partenza faceva un traguardo si sfidava chi riusciva ad arrivare prima vinceva che di solito vinceva la forma di formaggio che tiravano in seguito hanno cominciato a sfidarsi e fare delle scommesse come tutti i giochi praticamente si comincia a scommettere c'erano i tifosi per uno i tifosi per l'altro si scommettevano fra di loro quindi durante i periodi anche del medioevo e via così era stato proibito questo gioco perché le scommesse di solito diciamo così chi comanda e via così cerca di di evitare che si giochi e poi iniziavano i litigi che ogni gioco dove ci si è di mezzo ci sono di mezzo non so allora se erano soldi o c'era gente che ci giocava la casa ci giocavano i poderi perché erano tutti o contadini o pastori ci giocava il greggio perché vincevano si sfidavano in questa maniera qua allora hanno cercato di limitare questo diciamo così di limitare le scommesse con il passare dei tempi e via così hanno cercato di regolizzare questo gioco in modo che non ci fossero più queste scommesse e questi questi litigi per quindi si è evoluto si sono create delle associazioni sportive e hanno fatto degli regolamenti in cui praticamente è un gioco da divertimento dove la vincita non è più soldo magari può essere una pizza può essere al giorno d'oggi una mangiata assieme in compagnia quando si fanno le gare adesso le gare che si sono praticamente ci sono dei calendari come tutte le attività sportive hanno organizzato ogni società sportiva organizza dei calendari quando gioca nella diciamo così nella sua provincia o nella sua regione dove possono partecipare tutte le altre società sportive quindi si fa un calendario che parte da marzo meno parla del gioco del ruzzolone fino a ottobre ci sono dei calendari dove ogni domenica generalmente c'è una gara dove partecipano le varie società sportive cos'è il gioco del ruzzolone praticamente tutti avete presente lo slalom gigante da sci che ci sono i paletti dove chi scia deve passare all'interno dei paletti e via così il gioco del ruzzolone adesso come è praticamente adesso ci sono i campi da gioco attrezzati costruiti lungo diciamo le strade sono dell'Apennino generalmente noi qua a Milano dopo ne parlerò di Milano come gioco lombardo adesso io sto parlando dove si pratica maggiormente il gioco del ruzzolone sull'Apennino ci sono i campi da gioco che generalmente di lunghezza dai 500 ai 600 metri la strada il percorso le strade dove si gioca il percorso è praticamente largo circa 3 metri e ci sono i treppi si chiamano treppi questi campi di gioco si chiamano treppi del gioco del ruzzolone e sono curve diciamo lì oppure ci sono anche qualche tiro in linea retta degli ostacoli come come ho parlato i paletti del diciamo così dello slalom gigante da sci che si chiamano biffi biffi allora questi paletti devono essere passati lungo il tracciato lungo la strada devono essere devi passare la rusola questo è un disco che rotola che lei lancia con una corda una fettuccina che viene arrotolata attorno e viene lanciata deve farla passare all'interno dei paletti se esce fuori deve ritornare indietro e passare all'interno c'è una partenza con due paletti una linea tracciata dove non si può sorpassare si comincia a tirare all'arrivo chi arriva più lontano in meno tiri vince il gioco può essere a squadre cioè 5 contro 5 a coppie 2 contro 2 o individuale il premio è una medaglia e via così un attestato che hai vinto la coppa che hai vinto così ci sono i campionati di quali qualificazione ai campionati nazionali perché ci sono i campionati italiani che ci svolgono ogni anno quindi ci sono le gare di qualificazione chi fa più punti durante la ligazione partecipa ai campionati italiani noi della Lombardia non siamo un gran che siamo circa in 15 siamo rimasti in 15 giocatori quindi chi gioca veramente siamo 8 circa 8 quindi riusciamo a fare magari due squadre oppure giocare in coppie e via così e partecipiamo alle gare ma andiamo a giocare in Emilia perché è la parte più vicina a noi qua non abbiamo nessun campo da gioco noi giochiamo al parco di Corsico chi è della Lombardia sa dove è Corsico dove gentilmente il sindaco oralmente ci ha permesso di giocare perché altrimenti non abbiamo nessun posto dove poterci allenare noi andiamo li piantiamo i paletti in giro lungo attorno al parco e poi ci alleniamo generalmente al sabato andiamo a fare qualche tiro per tenersi allenati per poi partecipare alle gare che si svolgono giù in Emilia oppure andiamo a giocare a Perugia andiamo a giocare da tutto diciamo così in tutto l'Appennino il nostro è un costo abbastanza elevato per spostarci quindi non abbiamo nessuna sovvenzione quindi ci autotassiamo per poter andare a giocare là basta noi abbiamo cercato di andare prima della pandemia anche nelle scuole di illustrare il tipo di gioco solo che è un po' difficile farlo capire perché bisogna giocare per apprezzarlo bisogna giocare che non è tanto facile sempre dice fai una rotella che gira ma non è tanto facile bisogna calcolare l'aria il vento se tira forte se tira da una parte o dall'altra perché questa rusola qua mentre gira se tira il vento mentre rotola se c'è aria la fa piegare l'aria tira di qua la rusola piega di qua cioè cambia direzione quindi come tutti i giochi ci vorrà abilità e un po' di fortuna e via ho detto noi qua ci manca perché anche andare nelle scuole come siamo andati prima della pandemia sì andiamo al parco a fargli vedere come si fa a giocare però se non c'è un campo da gioco è difficile far capire e far vedere com'è ci vuole e noi qua purtroppo non ce l'abbiamo cerchiamo siamo andati dai sindaci vari io la sede della società è settimo milanese io sono il presidente siamo andati tante volte dal sindaco col signor Milani che conosce bene anche Paolo però ci hanno promesso sì sì vediamo il po' vediamo l'attrezzato poi alla fine quindi ci alleniamo nel parco di Corsico parco Travaglia dove oralmente il sindaco di prima perché adesso c'è un nuovo sindaco quindi non abbiamo ancora parlato e ci ha detto sì sì giocate pure state attento perché è un gioco anche pericoloso cioè non è che possiamo mettersi nella strada su se l'appennino si gioca in mezzo alle strade si gioca anche così anche se hanno adesso hanno costruito i campi proprio da gioco sono minimo sei treppi sei tre treppi a lanciare e tre treppi a ritornare dove si gioca e è diviso in categorie c'è la serie A serie B e serie C giocano i pulcini gli allievi e via così per i piccoli e via così fino ad arrivare il peso è circa due chili largo sei centimetri con la curva deve essere curvato non può essere pari poi inutile che vi faccia vedere come si tira come si lancia si rotola è difficile non è tanto facile bisogna provare grazie 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 per la passione un altro appello per la difficoltà che i giocatori hanno di praticare il proprio gioco quindi quando avendo campi da gioco anche andare a fare pubblicità nelle scuole è un gioco che non è la palla che si può stare questo qua se ti è legante si rompe la gamba non è che grazie 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 vediamo chiamo Damiano no chi è che viene Damiano ah ok va bene per l'ultima l'ultima comunità Fossa Caprara sburla la roda evviva bene Paolo buongiorno a tutti è bello essere qua assieme come una grande comunità di comunità questa mattina ho sentito questo comunità di comunità per noi è bello vedere come i giochi di questa mattina siano giochi che hanno delle radici profonde radici nella storia radici nel territorio radici che si innestano in legami tra persone da tempo da tanto tempo e allora ci chiediamo ma cosa siamo qua a fare noi con questo gioco che abbiamo inventato meno di vent'anni fa perché il nostro è un gioco nuovo per noi il gioco è stato lo strumento è stata la porta è stato il passepartout è stato il pretesto per creare comunità il nostro gioco è molto semplice spingiamo delle rotoballe di paglia abbiamo cercato quindi di costruire la storia dietro la rotoballa la paese sul fiume siamo sul Po i mugnai erano sul fiume in paese ci sono i nipoti di mugnai che avevano i mulini natanti sul fiume Po le macine del mulino ne abbiamo due in paese che erano le macine che servivano per sostituire le macine ormai usurate su uno degli ultimi mulini natanti sul fiume mugnai farina le macine rotolano ci abbiamo costruito una narrazione dietro il gioco il gioco ripeto è il pretesto si inserisce in una sagra se non parliamo della sagra non capiamo il gioco noi abbiamo dovuto organizzare una festa vent'anni fa una sagra del paese in un paese di 200 persone dove non c'era niente per cercare di tenere assieme il paese eravamo senza soldi allora abbiamo inventato la sagra liscio free senza liscio tre giorni di festa senza musica perché non avevamo un euro non avevamo un finanziamento dall'amministrazione pubblica abbiamo messo i nostri soldi per autofinanziarci nella creazione di questa festa è stato un successo la gente veniva perché non c'era liscio e non c'era musica e poteva parlare da lì è nata l'intuizione restiamo insieme con dei giochi le persone abbiamo visto che stavano bene assieme e allora per chi ha vissuto la nostra sagra sa che è una tre giorni è un piccolo festival dei giochi di strada molto più semplice ma dove si crea la relazione anche attraverso il gioco mi piace molto la costruzione il concetto di costruzione della comunità degli amici del Pirli che ho visto sì forse sì esatto noi in questi anni abbiamo cercato di costruire di allargare la comunità anche grazie all'esperienza del Tocati quest'anno in piena pandemia allora noi siamo riusciti a organizzare la sagra lo scorso anno unica sagra organizzata in provincia di Cremona in piena pandemia ci abbiamo messo testa ci abbiamo messo studio abbiamo cercato di capire come fare per interpretare la normativa abbiamo fatto una sagra con circa mille posti a sedere su tre giorni quest'anno IDEM non abbiamo lato prenotazione online e siamo riusciti ad organizzarla su prenotazione con un sistema anche utilizzando prenotazione col cellulare prenotazione con Google moduli quindi organizzata tre giorni tutto pieno se riuscite a farla nel rispetto della normativa Covid abbiamo avuto una grossa difficoltà che nel questionario l'abbiamo citata la mancanza di supporto dagli enti locali anzi a pochissimi giorni della sagra hanno detto voi non potete farla ed è un problema che vi dico che ci potrà essere per tutte le prossime feste nel momento in cui passa da pubblico spettacolo in quel momento scatta tutta la normativa della commissione di pubblico spettacolo le feste devono sottostare a una commissione con vigile del fuoco eccetera molto rigida cosa vuol dire questo che noi non avevamo tutti i requisiti e normativamente mettere a posto tecnicamente tutte queste carte se non c'è un'assunzione di responsabilità dell'amministratore che capisce il contesto capisce la situazione capisce che comunque sia a norma ma la virgola non è a posto e quindi si supera con una presa di responsabilità da parte dell'amministrazione in questo caso del politico attenzione che diventa molto c'è difficile noi ci siamo focalizzati sul concetto di pubblico spettacolo noi facciamo giochi alla nostra sagra non c'è musica ma sburla la rueda rientra nel pubblico spettacolo perché abbiamo 50 giocatori che spingono col pubblico che guarda quindi è pubblico spettacolo quest'anno non siamo riusciti ad organizzarlo nel campionato nel palio alla sera ma e giochi è pubblico spettacolo intrattenimento o no mi rivolgo a ecco i presenti alle istituzioni noi abbiamo in un certo modo grazie i legami che abbiamo creato bypassato e li abbiamo fregati per un certo verso abbiamo invitato gli amici della morra di Barbariga sono stati i nostri ospiti abbiamo fatto l'articolo sul giornale ospiti gli amici della morra di Barbariga sono venuti gli abbiamo fatti giocare al tavolo con microfono gli altri sentivano che giocavano alla morra ho detto voglio vedere se due che giocano al tavolo è pubblico spettacolo o no contenti altri che guardavano andavano al proprio tavolo e giocavano alla morra è pubblico spettacolo un intrattenimento cosa se io prendo un mazzo di carte e mi siedo al tavolo e gioco carte è un intrattenimento è un pubblico spettacolo cos'è? abbiamo organizzato un'altra sera per tenere assieme le persone un gioco scusate un po' demenziale la prima campionato italiano di corsa con i cavalli ad ondolo quindi abbiamo costruito dei cavalli ad ondolo in legno che era proprio abbiamo questo spirito la gente era al tavolo e a turno si andava lì e correvano su un cavallino ad ondolo sulla distanza di 5 metri perché tanto non vai avanti e il giorno dopo arriva il messaggio del funzionario del comune dice per fortuna mi avete detto che non era pubblico che non c'era la cosa a un certo punto dico noi andiamo avanti mi venite a prendere se volete perché se mancano se manca la capacità di capire cosa vuol dire fare comunità e l'importanza delle persone oggi di ritrovarsi e stare assieme per noi finisce un mondo finisce la nostra sagra e il nostro gioco ma c'è bisogno di comunità c'è bisogno di relazioni e in questi vent'anni abbiamo visto che le persone vengono per stare e lì stanno bene stanno bene assieme vi racconto questa e poi chiudo sono venuti due ragazzi da Monza sono passati hanno pernottato in Casal Maggiore sono rimasti con noi per tre giorni perché sono stati contentissimi la prima sera e sono rimasti con noi per tre giorni abbiamo gente che ci chiede quando è la sagra per venire sta lì dorme e vive il territorio quindi il gioco può essere il motore della comunità può essere il pretesto per fare conoscere un territorio in questi anni abbiamo creato dei legami con altre comunità ludiche gli amici di Mede sono stati i nostri ospiti gli amici della Morra quest'anno abbiamo un legame da anni con il caccio il fuso di Pienza abbiamo invitato i trampolisti di Schieti e ogni anno noi invitiamo una comunità ludica che abbiamo conosciuto in amicizia a essere nostri ospite gli altri conoscono noi l'anno dopo andiamo a trovarli questi legami quindi di comunità di comunità alla fine siamo noi basta Paolo grazie grazie Damiano una domanda ma i due i due londinesi che si sono fermati hanno visto la corsa dei cavalli hanno corso sul cavallo allora è pubblico spettacolo allora è pubblico spettacolo allora dico una cosa dell'associazione allora noi siamo l'associazione oltre Fossa vi dico che è sostenuta da tre splendide donne che in silenzio c'è l'Antonella Cristina Giusi Lorestina sono veramente donne che senza loro che si muovono che organizzano che mettono in fila non sarebbe possibile in un paesino di duecento persone quando non c'era la pandemia quattromila cinquemila coperti in tre sere e in questi ultimi anni organizzare con difficoltà il tutto ma ce l'abbiamo sempre fatta l'Antonella grazie 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 veramente se non vi è mai capitato di andare in questo paesucolo di duecento anime insomma andateci quando c'è la festa la sagra altrimenti non lo trovate visto che anche noi nel nostro comune quando facciamo la fiera abbiamo questi problemi io ti ti faccio una contraddomanda te sei vice sindaco io sono te che fa la gara succede qualcosa nell'ambito della tua sagra chi risponde se faccio fai la pubblico la commissione pubblico spettacolo la responsabilità del sindaco se non la fai che hai più di duecento persone chi risponde o c'è un oppure se c'è il tuo parroco che risponde a lui per una sagra di parrocchia ma sempre con meno di duecento persone guarda che è molto importante questo io te lo dico come vice sindaco perché sono tre anni che lottiamo anche a noi perché il nostro parroco non vuole spendere i trecento euro per fare la commissione pubblico spettacolo capito il punto non è dei duecento euro che noi i soldi della sagra li reinvestiamo principalmente in cultura perché noi in questi anni abbiamo pubblicato dei libri e dato anche un contributo ad AGA per il parco lo dico attenzione che col gioco della responsabilità bisogna anche un minimo rischiare cioè qualche volta perché altrimenti non ci muovemo più con le carte solo con le carte bollate con i timbri con la responsabilità perché altrimenti io posso uscire e mi investono allora non vengo qui perché c'è il covid oggi non vengo e qua non viene nessuno se non mi assumo un rischio minimo no allora adesso non voglio entrare sul tecnico però un attimo un attimo un attimo siccome ci sarà modo di discutere di questa cosa dopo il pranzo allora adesso ci sediamo a mangiare e dopodiché dopodiché riprenderemo con la discussione io volevo solo dire è molto importante tutte le questioni che sono emerse mostrano quanto concreti e precisi siano i bisogni delle comunità per poter continuare a trasmettere queste tradizioni quindi questo sarà il soggetto del dibattito perché fino a oggi abbiamo identificato documentato raccolto dati ma adesso partono a nuova fase quindi avremo un intervento di un giurista che ci darà un contributo per chiarire rispetto a questi bisogni quale misura di protezione giuridica possiamo mettere in opera poi apriremo il dibattito quindi tutto questo lo riprendiamo nel dibattito una cosa che ci siamo detti oggi e che ci siamo detti preparando questa giornata ci piacerebbe riteniamo che sia molto importante identificare insieme delle priorità sulla base dei vostri bisogni quali priorità vogliamo quali linee di attività prioritaria vogliamo sviluppare insieme e quindi adesso io lascio la parola a Benedetta Ubertazzi e poi dopo riprendiamo tutti insieme per il dibattito finale Benedetta eccoti qua ti vediamo grazie dell'attesa Benedetta ti abbiamo fatto aspettare ma i tempi si sono un po' allungati con la tavola e ti ascoltiamo adesso vedo tutti fantastico allora io ringrazio tutti mi scuso di non essere a Milano io in realtà che sono milanese però almeno un weekend cerco di uscire e respirare un po' d'aria allora mi scuso veramente tantissimo e ringrazio di questo spazio anche se online il mio intervento è finalizzato a spiegare la rilevanza di misure giuridiche di protezione nell'ambito delle vostre attività che insomma ci hanno ci hanno tenuto compagnia tutta la giornata e soprattutto le comunità le hanno spiegate così bene quindi in questo contesto in questo quadro che cosa facciamo di giuridico per proteggere queste pratiche io sento un po' disturbato non so se voi mi sentite bene comunque io ho identificato ecco adesso meglio quattro quattro diversi gruppi di misure giuridiche di protezione che sulle quali abbiamo lavorato grazie anche a regione Lombardia con Aga nel corso di questi ultimi mesi e anni insomma il primo gruppo di misure a protezione di natura giuridica sono rivolte a proteggere gli spazi perché gli spazi sono associati alla pratica secondo la convenzione UNESCO del 2003 e quindi vanno protetti se non ci sono spazi non ci saranno i giocatori e non si potrà giocare quindi che cosa si è fatto Aga è riuscita ad avere uno dei casi più studiati davvero in tutto il mondo perché è riuscita ad avere una legge proprio per garantire che in maniera permanente durante tutto l'anno i giochi possano essere svuoti in una strada di Verona quindi questo si è ottenuto grazie a uno strumento giuridico di protezione una legge dappiché Aga ultimamente è riuscita ad avere altri spazi garantiti e in particolare il parco e la casa colombare e questo grazie a un altro strumento giuridico di protezione che è una convenzione tra Aga e il comune di Verona affinché il comune possa dare ad Aga incomodato d'uso questi spazi e quindi ancora riusciamo tramite strumenti giuridici a ottenere gli spazi necessari per portare avanti la pratica oltre alle giornate del Tocatì ma in maniera proprio permanente altre misure di protezione giuridica sono quelle finalizzate alla protezione della proprietà intellettuale della proprietà intellettuale delle comunità quindi proprietà intellettuale collettiva e quindi che cosa si è fatto in questi ultimi anni anche con Aga abbiamo siamo riusciti a registrare il logo quindi Tocatì quindi abbiamo registrato un marchio che verrà concesso in licenza d'uso gratuita a tutti i partner e alle associazioni perché è per la intellettuale collettiva pur essendo un marchio individuale e soprattutto per quanto riguarda l'inventario e quindi quello che interessa più le giornate la giornata di oggi diciamo come voi potete sapere l'inventario è giuridicamente parlando un database e quindi sorgono i diritti di proprietà intellettuale sui database a beneficio della regione e della comunità di Aga quindi di tutte le comunità questa proprietà intellettuale nuovamente quindi è collettiva tuttavia va protetta adeguatamente poi vi farò vedere anche delle immagini sulla necessità di protezione e quindi oltre a questo ma sempre in relazione a questo abbiamo lavorato con la regione in particolare Agostina Lavagnino che vedo in prima fila ciao Ago per abbiamo fatto un lavoro importante per proteggere l'archivio quindi l'inventario è un archivio è un database giuridicamente parlando ed è quindi un archivio digitale e siamo abbiamo utilizzato degli strumenti normativi messi a disposizione degli archivi digitali dal gruppo europeo che lavora in materia di privacy quindi di protezione dei dati oltre che protezione della proprietà intellettuale e quindi abbiamo inserito delle norme specifiche per proteggere tutto il lavoro dell'inventario a beneficio della comunità l'ultimo gruppo di misura giuridica di protezione sono le misure volte a proteggere i finanziamenti a favore di Aga e di tutte le comunità e i finanziamenti in particolare possono essere finanziamenti pubblici in questo contesto di Aga della convenzione con il comune garantire gli spazi oltre che gli spazi finanziamenti perpetui grazie anche al lavoro di Valentina ovviamente vale scusa se non ti ho salutato ma non ti vedo però tutto il lavoro di Valentina che sta dietro a tutto quanto e quindi tutti i lavori sempre volti a riconoscimento giuridico della personalità giuridica di Aga che stanno impegnando Aga in questo momento anche con il ministero e la prefettura che sono di nuovo misure di protezione giuridica per quanto riguarda invece la protezione dei finanziamenti privati sempre con Aga stiamo lavorando e abbiamo lavorato per garantire che i contratti e quindi tutti i contratti di sponsorizzazione in particolare fossero fedeli a questi schemi giuridici che vi ho appena delineato e quindi al fatto che la proprietà intellettuale sia collettiva a beneficio delle comunità e quindi non vada a finire ad esempio nelle mani dello sponsor ma resti in Aga e quindi anche per la protezione dei dati secondo quanto vi ho appena detto quindi questo in breve tutto il lavoro giuridico importante che Aga ha capito fin dall'inizio insieme alla regione grazie anche ai finanziamenti regionali per proteggere tutti i diritti delle comunità che vengono anche oggi illustrati tramite la presentazione di questi importanti lavori di inventariazione adesso io volevo se possibile fare vedere due situazioni che illustrano l'importanza delle misure di protezione giuridica ecco questa è una iniziativa che la popolazione indigena Sami norvegese che sono gli unici popoli indigeni nell'Unione Europea però essendo gli unici vengono molto protetti anche giuridicamente ha messo in atto per garantire che quello che si chiama gamification quindi la possibilità di digitalizzare il gioco tradizionale dei Sami avvenga in maniera protetta per la comunità e quindi che cosa è successo hanno messo messo in piedi misure di protezione di natura contrattuale con come si chiama Minecraft si chiama comunque adesso possiamo vedere se lo facciamo andare mentre parlo così possiamo vedere tanto è un minuto di video vedete questo è il Parlamento dei Sami e questa è un'iniziativa volta ad avvicinare le scuole ai Sami perché loro possono entrare nel Parlamento tramite questo gioco che è Minecraft che è conosciutissimo insomma soprattutto dai più giovani e dove devono cercare nel Parlamento quello insomma quello che gli viene detto dal gioco però così riescono ad avvicinarsi di più alla popolazione Sami questi sono pochi minuti quelli disponibili altrimenti uno su Minecraft si deve comprare il gioco però tantissimi stanno giocando questa è la bandiera dei Sami e soprattutto a parte questa iniziativa vedete di entrare nel Parlamento Sami e di trovare degli oggetti c'è proprio ci sono proprio i giochi tradizionali digitalizzati da parte di Minecraft ma il tutto è avvenuto in maniera molto protetta giuridicamente e a beneficio delle comunità della comunità e quindi questo possiamo dire è una success story adesso vi posso invece far vedere il secondo link se possibile ecco questo è Frozen questo è un film di Walt Disney che invece è stato mandato nelle sale senza prima avere interpellato la comunità e questo è un trailer che è stato maggiormente curato da Walt Disney dopo che i Sami si sono opposti e adesso sono riusciti ad ottenere un nuovo contratto che garantisca anche un access and benefit sharing e quindi che garantisca che la digitalizzazione avvenga in modo protetto anche quando viene concretizzata attraverso un film e quindi questo contratto è segreto non si può vedere perché la Disney ha richiesto la segretezza però la popolazione Sami è riuscita ad ottenere una maggiore protezione e verrà anche tradotto nella lingua Sami il film Frozen 2 quindi è maggiormente tutelante per la comunità grazie mille se possiamo interrompere la condivisione di questo materiale quindi questo per dire che le misure giuridiche soprattutto in contesti di patrimonio culturale immateriale di comunità sono assolutamente importanti e quindi io adesso non vedo più però la sala vedo uno schermo nero comunque magari riuscirò a vedere la sala dopo e quindi eccovi eccovi grazie alla regione alle iniziative di AGA a tutte le comunità che stanno facendo anche formazione su questi argomenti relativi alle misure di protezione sicuramente nei mesi prossimi le attività di formazione saranno ancora maggiore in modo tale che questo imponente lavoro di inventariazione e di digitalizzazione possa essere anche protetto a beneficio proprio delle comunità protetto giuridicamente grazie allora questi due esempi interessantissimi e sicuramente anche sorprendenti in questo contesto come direci che ci porta la professoressa Obertazzi sono particolarmente significativi perché appunto il popolo Sami è come lei ha giustamente detto è l'unico popolo indigeno così definito secondo anche le convenzioni internazionali delle Nazioni Unite nella nostra nel nostro contesto europeo e quindi è in qualche modo il simbolo anche di un grosso importante movimento perché voi sapete quanto queste convenzioni internazionali sono legate all'ambito dei diritti umani e sappiamo perché insomma la storia coloniale di cui siamo figli è una storia evidentemente anche di violenze coloniali di sopraffazioni dei diritti delle comunità e questo non è accaduto soltanto fuori dai nostri confini nei paesi dell'America dell'Asia i paesi delle conquiste ma anche al suo interno io per anni ho lavorato in Francia paese fortemente centralizzato nelle sue politiche culturali con grosse sofferenze identitarie sofferenze di popoli che effettivamente hanno sacrificato diciamo al centralismo i loro patrimoni culturali e se ne sentono in qualche modo anche privati e questa convenzione è molto importante nella vita culturale della Francia proprio per permettere alle comunità di riappropriarsi di questi patrimoni e farne uno strumento diciamo di futuro allora abbiamo visto questi quattro ambiti sicuramente quello dell'inventario è il primo passo perché quello dell'identificazione della conoscenza come ci siamo detti da stamattina vediamo come anche la protezione dei dati dell'inventario debba essere considerata in termini di quello che in inglese si chiama il benefit sharing cioè la condivisione dei benefici di questo lavoro per questo motivo credo che sia importante che tutti ci mettiamo informazione in questo senso perché il tema delle banche dati è un tema importante abbiamo tanti come dire furti di dati sensibili di dati che sono di diritto comunitario e che vengono poi di cui si appropriano i gruppi industriali cui abbiamo visto la Disney e abbiamo visto come i Sami grazie a una forte organizzazione del popolo Sami riescano a negoziare dei benefici non soltanto a farsi portare via i loro patrimoni e questa è una cosa che riguarda tutti ci riguarda tutti e quindi ecco il tema dello spazio che è stato il primo sul quale Benedetta ci ha portato a riflettere e quanto la storia di Aga sia testimonianza concreta vivente di una capacità a negoziare col comune e con gli enti il diritto all'uso degli spazi abbiamo una strada per esempio che tra l'altro questa è anche una storia poi particolare perché sono proprio gli abitanti del quartiere che hanno richiesto che una strada fosse dedicata al gioco e tutto questo nell'ambito di Toccati è grazie a questo grande lavoro di sensibilizzazione di empowerment come lo chiamano i francesi cioè quindi di presa degli inglesi quindi di presa di consapevolezza e quindi anche di acquisizione di potere da parte di questi gruppi quindi il tema dello spazio il tema dei loghi e questo è un altro grande tema perché il logo proteggere un logo significa anche fare in modo che tutto il patrimonio che Toccati sta costituendo non venga poi preso da qualcun altro per farne altro senza che ci sia un ritorno in termini di benefici quindi adesso stiamo lavorando anche perché tutti voi possiate usare questo logo voi che siete parte della rete della candidatura di Toccati come programma condiviso e quindi questo è un altro tema importantissimo il tema dell'inventario su questo dovremmo evidentemente da ora in avanti lavorare in un'ottica di formazione formazione significa anche empowerment significa prendere consapevolezza anche autoformarci sulla base dell'esperienza di ognuno di voi e vediamo come l'esperienza di Aga sull'uso degli spazi sia fondamentale utile per proporre anche nei vostri contesti convenzioni con i vostri comuni convenzioni con gli enti regionali quindi ecco in questo senso dovremmo a bisogni concreti concrete risposte per citare un maestro dell'antropologia che invece aveva parlato di astratte risposte e poi la protezione e poi il tema dei finanziamenti ecco questo anche sicuramente finanziamenti pubblici finanziamenti privati come i diritti di proprietà intellettuale possono essere utilizzati dalle comunità che sono effettivamente come dire proprietari di diritti di proprietà su un bene che loro stanno trasmettendo su quale loro stanno lavorando e quindi avete visto insomma questi esempi che ci ha portato Benedetta l'entrata del gioco tradizionale nel mondo del digitale è un altro tema estremamente importante e sensibile per le nuove generazioni quindi io direi che proprio per darci delle priorità di lavoro per i prossimi diciamo anni adesso io vorrei dare la parola alla sala per un giro di un giro di parola e cominciamo da Ludovico che si è avvicinato e ha preso possesso dello spazio di parola e questo mi sembra un ottimo un ottimo segno grazie intanto grazie e mi scuso per l'arroganza che mi sono preso possesso del tavolo della presidenza a scapito di Paolo però me lo sono permesso in funzione del suo gilet e quindi se lui si può permettere di portare un gilet si è fatto io posso permettermi di sedere a questo tavolo due o tre cose che mi ha stimolato evidentemente l'intervento che abbiamo ascoltato prima eccetera protezione giuridica proprietà intellettuale eccetera mi rivolgo ancora alle istituzioni negli anni una cosa che mi sono dimenticato nell'intervento di prima era dire che il gioco fa parte di un percorso didattico specifico che all'interno della nostra iniziativa di educazione ambientale di educazione al territorio facciamo come cooperativa l'innesto rivolgendoci alle scuole filtro alle classi filtro della scuola primaria che sviluppiamo in valle cavallina ma dove i fruitori non sono le scuole della valle cavallina perché già conoscono l'ambiente già conoscono il territorio ma vengono da fuori vengono da Milano da Monza da Cremona da Pavia da Mantova non vengono quelle della provincia perché sviluppare un'attività relativa alla valle in gioco in provincia di Bergamo per i bergamaschi è già conosciuta e quindi non ci vengono mentre invece dovrebbero essere lo zoccolo duro perché in realtà poi non lo conoscono non lo praticano non lo rendono attivo ma al di là di questo nel nostro percorso di ricerca e di classificazione vi ho detto prima di circa una decina di giochi che provengono dall'esperienza del lavoro nei campi nei boschi eccetera che si sono trasformati in gioco che molte volte diventano anche soluzioni innovative per il lavoro stesso cioè il gioco che nell'evoluzione del ricercare la migliore performance agonistica trovano soluzioni per le performance lavorative utilizzando gesti suoni forme cioè gli attrezzi piuttosto che i rumori che fanno gli attrezzi nel tagliare il bosco piuttosto che nello sfalciare il prato o nel battere la falce diventano elementi importanti tutti questi elementi li abbiamo fatti diventare ulteriori due giochi il gioco di Tramontalba che non era nient'altro che una il gioco dell'oca trasformato in stagionalità delle attività e quindi il passaggio del gioco o delle attività lavorative da una stagione all'altra che poi ci è stato presentato la provincia di Bergamo che hanno detto sì bella cosa però non si può attuare l'anno dopo la provincia ha fatto del gioco di Tramontalba l'oca agricola prendendone e ottenendo tutti i benefici relativi non so se mi spiego anche in termini di proprietà intellettuale cioè non era più una cosa ideata e pensata dalla comunità della Valcavallina ma era una cosa pensata e attuata dai funzionari della provincia di Bergamo e quindi che diventava di proprietà della provincia che avendone la capacità economica di sviluppare il progetto ne hanno riprodotto x coppie che hanno poi regalato alle scuole e noi siamo rimasti col cerino in mano pur avendo ideato e pensato il gioco l'altra cosa è l'oca agricola capisco che si scuota la testa no ho visto che non so se era di assenso o di dissenso questo non e quindi mi scuso se ho interpretato male però davvero l'abbiamo pensata vi faccio l'esempio dell'oca agricola l'oca il gioco dell'oca è semplicemente quello che dice ti ridadi fai tre passi avanti poi c'è una casella c'è un handicap ti fermi un giro piuttosto che no l'avevamo trasportato negli elementi naturali delle attività lavorative sfalcio l'erba cado dove sfalcio l'erba vado avanti tre passi vado già al fienile cado sulla giornata di pioggia che bagna il fieno e quindi devo ritardare il governo del fieno e questo diventa un handicap quindi mi fermo un giro e ci sono 5, 6, 7, 8 situazioni di questo tipo che ti fa andare avanti e che ti fa tornare indietro le condizioni meteo la quantità di persone che sfalciano cioè ci sono varie situazioni queste robe sono diventate poi invece un elemento che la provincia avendone la capacità economica di investire sul progetto ha realizzato il progetto grafico il progetto di diffusione di divulgazione eccetera e quando io ho tentato di far valere ma scusate l'abbiamo pensato noi l'abbiamo voluto noi ve l'abbiamo proposto perché non ci avete nemmeno considerato in questa come ritorno anche tra virgolette di sostenibilità ci hanno detto no ma voi ce l'avete proposto ma poi era libero no sì è libero ma riconoscimelo cioè tumbola agricola stessa cosa cioè anziché i numeri gli animali uno dice sì ma c'era già ci aveva già pensato qualcuno sì ma l'abbiamo calato sul territorio sul territorio delle Alpi Orobbie della pianura bergamasca l'hanno riconsiderato graficamente eccetera e se ne sono fatti una proprietà intellettuale non so nemmeno se può essere considerata tale semplicemente l'hanno fatto e l'hanno diffuso manco sarà registrato cioè voglio dire non siamo arrivati a pensare a tante situazioni però se l'ente pubblico il soggetto pubblico non capisce non contribuisce davvero alle valorizzazioni locali che siano esse il gioco che è l'oggetto della nostra giornata o che siano altre situazioni capite che se non si dà ruolo ai territori qui stiamo parlando di comunità che hanno 200 abitanti e che fanno la sburla della della balla la scusate cioè noi siamo una comunità di 120 abitanti in un comune di 800 abitanti in una valle di 35.000 abitanti piccoli numeri probabilmente ma il Po grande fiume dell'Italia se non fosse alimentato da queste piccole piccolissime sorgenti che stanno sui territori come cazzo fa scusate il cazzo a essere il grande fiume non esisterebbe il grande fiume se non ci fossero le piccole migliaia di sorgenti sparse per la montagna se non ci fossero le migliaia di comunità migliaia centinaia di comunità sparse nei piccoli territori o nei grandi territori ma che reggono quelle situazioni a scanso delle difficoltà personali familiari eccetera cioè consideriamo tutte queste situazioni e vanno ovviamente valorizzate sostenute condivise se ne deve parlare se ne deve parlare se ne deve parlare in termini di legalità di norme ma è possibile che per giocare alla morra e sentivo il vice sindaco che diceva ma di chi è la responsabilità la morra queste sono gli strumenti di gioco li metti in tasca li porti via che male potranno fare le persone quale responsabilità hai nei confronti delle persone che assistono in 200 o in 500 questo è lo strumento della morra questo la metti in tasca e lo porti a casa capisco le bocce quadre che hanno gli spigoli li devi mettere in una cassetta e portare via e se le lanci addosso un altro potrebbero fare male ma davvero bisogna entrare nella logica di che cos'è la responsabilità rispetto a queste situazioni c'è responsabilità e responsabilità gli assembramenti la parete ignifuga la sedia che non deve prendere fuoco ma venite a Gaverina scusate dico Gaverina a trate e chiedetemi di fare uno spazio capace di ospitare più di 200 persone con dende ignifughe siamo in mezzo al bosco ma che cavolo faremo di ignifugo che se uno sbaglia accendere un fiammifro prende fuoco il bosco non in questi termini non prende fuori il bosco il bosco prende fuori se tu lo accendi con dolo non per caso allora norme ma che abbiano siano norme di senso furti delle proprietà intellettuali che non possono essere perpetrate dagli enti pubblici quanto meno salvateci almeno da questo cioè gli enti pubblici non possono approfittarsene delle capacità intellettuali dei territori non siamo considerati come si chiama territori interni aree interne aree svantaggiate eccetera ma siamo di margine perché nei nostri territori c'è una linea sottile che è quella del divario digitale che ci separa dal fondo valle e dalla mezza costa noi abbiamo come cooperativa la sede in un piccolo comune dove internet arriva sì e no un giorno due giorni sì tre giorni no forse forse domani il post funziona per riscuotere cinque euro per un caffè cinque caffè non esiste cioè queste sono le norme e l'innovazione che dobbiamo dare ai territori il divario digitale oggi per le piccole comunità non quelle interne quelle di margine che sono magari vicine ai centri di produzione basta un chilometro perché c'è un qualcosa che li divide dalla civiltà rispetto alla civiltà di una volta cioè davvero dobbiamo pensare di andare a rendere gallerina terme piuttosto che adesso altri comuni che non ci arriva internet né di giorno né di notte come potete pensare che un'impresa possa impiantare un'attività imprenditoriale in una zona e quando dico attività imprenditoriale non pensate solo all'aspetto economico noi siamo un'impresa sociale che fa però della ricerca culturale dal trasferimento dei saperi uno degli elementi del suo fare dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati un'attività del suo fare e se non ha gli strumenti tecnologici per poterlo fare rimane esclusa e quel territorio se questa cooperativa questi soggetti che si danno da fare le comunità le associazioni eccetera le comunità ludiche le associazioni non riescono a lavorarci in questi territori saranno sempre esclusi quei territori scenderanno a valle poi scenderanno verso la città e poi scompariranno scomparirà cultura tradizione ambiente scompare tutto il mio è una dichiarazione di aiuto una richiesta di aiuto da una parte e una denuncia dall'altra però davvero che le istituzioni si rimbocchino le maniche le comunità il loro contributo lo daranno sempre non abbiate timore che le comunità diano il loro contributo lo daranno sempre adesso il contributo deve venire dalle istituzioni grazie Ledevito per questo appello accorato che porta molti elementi positivi alla nostra attenzione il gioco come dire anche terreno di ricerca e di soluzioni innovative questo è un dato storico importantissimo e due giochi che ha citato e effettivamente appropriazioni illecite come noi le definiremo in ambito UNESCO che danno come dire aprono la riflessione all'uso anche dei nostri inventari cioè facendo l'inventario e quindi coinvolgendo la comunità del Pirlì abbiamo anche fatto ricerca con Lodovico e con altri membri della comunità abbiamo assistito a giornate in cui i bambini delle scuole sono venute venuti a giocare abbiamo visto quanto questo gioco riavvicina e avvicina le generazioni di questa valle veramente che è una valle in sofferenza come avete avrete sentito e questo inventario è anche uno strumento di riconoscimento ma nel riconoscimento non ci sta soltanto come continuo a dire la documentazione di quello che esiste ci sta la pianificazione di quello che possiamo fare tutti insieme per evitare che succedano le cose che abbiamo appena sentito quindi riconoscere che questi giochi vengono dalle idee dal patrimonio di creatività messo in opera da una comunità che resiste su un territorio di montagna dovrebbe essere diciamo obbligatorio prima che una provincia o un ente pubblico inizia come dire diffondere il risultato come proprio allora questo è effettivamente un grandissimo tema qui rientriamo nel tema delle misure e di protezione anche di loghi di sistemi di proprietà intellettuale e chiaramente anche il tema di come si costruiscono queste ricerche perché se noi nel momento in cui andiamo a attraverso la ricerca rivelare tutta una serie di dati rendendoli pubblici come facciamo a tutelare le comunità che ne sono detentori non per niente si parla di detentori e praticanti praticanti una pratica in questo caso ludica ma non solo perché abbiamo ben capito che pratiche alimentari che dentro il gioco ci stanno tante altre cose e abbiamo una carrellata di esempi stamattina che adesso diffonderemo attraverso un messaggio con mail con tutti i punti che sono emersi artigianato spazi tutti i grandi temi e detentori di diritti su questi beni quindi il tema della condivisione dei benefici a questo punto diventa fondamentale anche nelle politiche perché noi siamo responsabili di un mettere pubblicamente a disposizione di una comunità diciamo planetaria attraverso il web dei dati che sono dati che appartengono alle comunità che sono detentori di tutto questo quindi ecco per questo io dicevo aprire la formazione ecco questo è stato un primo momento di formazione abbiamo chiamato Benedetta che è giurista e ci aiuta perché noi studiosi di tradizioni antropologi non abbiamo mai fino all'arrivo di questa convenzione unesco praticato il tema della protezione dei diritti delle comunità cioè siamo stati semplicemente in grado di far firmare delle liberatorie delle cessioni di diritti per accertarci di poter utilizzare quei dati ma non siamo riusciti a fare niente di più sicuramente attraverso l'esperienza di Tocca T e di AGA adesso è la grande straordinaria potenziale dell'inventario regionale abbiamo degli strumenti nuovi quindi io direi questa di Lodovico è stata una testimonianza diciamo fondamentale perci capire il carattere anche d'urgenza di una risposta istituzionale io darei la parola sicuramente alle istituzioni che ci ascoltano e poi anche agli altri per continuare il giro non so chi vuole prendere la parola si faccia avanti si grazie Valentina volevo portare un paio di esempi rispetto a quanto è stato raccontato finora l'audio non si sente? no ora si si? ah ok allora un paio di esempi il primo riguarda proprio il diritto legato alle comunità di pratica allora nei casi di ricerca finora fatti legati all'inventario abbiamo sempre chiesto il consenso libero informato delle comunità e in alcuni casi pensando il patrimonio alimentare per esempio non sono state pubblicate delle procedure per esempio che le comunità ci hanno raccontato ma che non avevano come dire non volevano diffondere ecco quindi in questo caso non è stato fatto perché comunque c'è sempre stato un rapporto esatto c'è sempre stato un rapporto diretto nelle fasi di ricerca di terreno e comunque nel momento in cui l'attore o la stessa comunità ci liberava quel racconto ce lo liberava o in toto o solo in parte quindi questo nel caso delle ricerche che io come dire conosco direttamente questo è stato fatto un altro esempio invece riguarda l'importanza di essere all'interno di un inventario che di patrimonio immateriale si occupa anche per essere dalle amministrazioni riconosciute io ricordo un esempio che cito ma non ricordo né il numero della DGR nell'anno e quindi sarà mia cura poi fare questa ricerca perché è in molte delle nostre slide e ve lo farò avere e del caso dei fuochi cioè il famoso caso dei fuochi ci fu una delibera regionale io credo nel 2000 no veramente non ricordo l'anno un po' dopo secondo me non ricordo però con precisione l'anno in cui venivano impediti i fuochi e l'accensione di fuochi durante i determinati periodi dell'anno noi avevamo documentato numerosi rituali fuochi di Sant'Antonio di comunità che erano e sono tuttora all'interno dell'inventario ecco questo ha come dire spinto e stimolato su richiesta delle stesse comunità ad intervenire su quella delibera per cui ci fu una deroga per la quale i rituali potevano nel caso di rituali comunitari riaccendere i fuochi legati a queste situazioni ricordo un due o tre anni fa su questo tema si fece un incontro sui rituali nelle chiese con la presenza dell'ufficio del canton Ticino che invece aveva impedito totalmente l'accensione dei fuochi per i rituali dell'inverno che tutti conosciamo e questo impedì e questo fu il racconto insomma della funzionaria alcuni riti si trasformarono cioè quindi si modificarono in funzione dell'assenza dell'elemento essenziale di quel rito altri si persero ecco quindi questo esempio secondo me è significativo perché il fatto di essere all'interno di un inventario può dare forza alle comunità in qualche modo per rivendicare un loro bisogno quindi l'accensione del fuoco per un rituale invernale i rituali di gennaio per esempio o di Sant'Antonio e così via sono importanti per le comunità ecco mi sentivo di portare questi due esempi perché di fatto sono nel rispetto da un lato del diritto delle comunità rispetto alla loro conoscenza quindi ai loro beni e l'altro il perché in effetti un inventario può essere il primo strumento di salvaguardia grazie mille Agostina molto importante questo perché in realtà l'inventario oltre a essere già di per sé un primo strumento di salvaguardia prevede tutta una parte che è dedicata proprio ad analizzare i piani di salvaguardia cioè le misure di salvaguardia una di queste fondamentale è quella della protezione giuridica è un lavoro diciamo tutto da sviluppare e Regione Lombardia è l'unica regione italiana che dà voce alle competenze molto concretamente intorno a un inventario che possono diciamo portare avanti questo tipo di pianificazione per la salvaguardia quindi abbiamo ascoltato Benedetta che è sicuramente una fonte preziosissima perché come avete visto sta facendo un grande lavoro di comparazione internazionale di casi in dialogo con una comunità internazionale di giuristi io sono stata recentemente coinvolta in un articolo importantissimo su appunto il caso di Aga e il tema degli spazi quindi un sito del patrimonio mondiale che però è anche luogo di esercizio di un patrimonio immateriale come quello del gioco e come tutto questo può fortificare i diritti delle comunità e c'è tutta un'analisi appunto che sviluppiamo fra scienze giuridiche e scienze dell'uomo quindi ecco questo per dirvi che davvero avete comunque abbiamo costruito tutti insieme un potenziale per il futuro notevole come diceva Sofia non ci sono molti esempi in Italia di questionari sui bisogni delle comunità come quelli che stiamo elaborando in questo momento quindi siamo piuttosto avanti però è chiaro che abbiamo tanta strada da percorrere la vediamo cominciamo perché questo è già cominciamo a vedere oggi abbiamo non so Marmirolo con dei giovani che arrivano il fatto di aver fatto ricerca prima della pandemia prima di questo momento in cui il tempo si è fermato e ha permesso anche a dei giovani di reinvestire sul proprio territorio questo è un esempio splendido perché abbiamo visto come i nostri territori per certi aspetti sono rinati durante la pandemia cioè io ho visto persone che tornavano a camminare che tornavano quindi sul piano del patrimonio immateriale è stato un periodo molto importante perché ci ha riportato a casa che eravamo tutti in corsa e ci ha fatto vedere cose che prima non vedevamo e questo voglio dire probabilmente oggi ci aiuta a mettere anche a fuoco le priorità come ci ha aiutato la testimonianza di Gaverina e del Bergamasco d'altra parte vi dico anche che la montagna sicuramente è il luogo è il luogo fondamentale da cui ripartire perché la montagna è il luogo da cui vengono è praticamente l'universo delle risorse naturali di cui tutti abbiamo bisogno per guardare avanti per sperare di riprenderci dai cambiamenti climatici quindi stiamo lavorando molto in montagna anche sul patrimonio alimentare delle Alpi molto con le comunità alpine perché sappiamo quanto questo è strategico per il futuro di tutti noi oggi però sappiamo che queste comunità alpine sono spesso in sofferenza marginalizzate combattono lo spopolamento custodiscono patrimoni preziosissimi che sono ogni giorno a rischio di scomparsa e quindi ecco questo ci richiede un grande impegno quindi ecco sul tema delle priorità mi pare che la formazione agli strumenti giuridici sia un bisogno sia delle istituzioni che delle comunità insieme per elaborare risposte concrete quindi questo sarà sicuramente un tema di formazione da mettere in campo per il prossimo progetto però magari sarebbe importante anche identificare altre questioni mi pare che un'altra cosa molto forte che è uscita è il tema degli spazi l'uso degli spazi anche questo ha ovviamente un risvolto giuridico abbiamo sentito l'esempio della strada dedicata al gioco in maniera permanente a Verona io sono andata a vederla tra l'altro poco tempo fa con Paolo e questa per esempio c'è ancora ed è rispettata e incredibilmente è in uno spazio aperto dove c'è solo un sistema di segnalazione per terra ma nessuno si parcheggia in quello spazio eppure è tutto aperto quindi io sono rimasta siamo andati per caso tra l'altro e Paolo diceva vediamo se magari adesso non è diventato un parcheggio nel frattempo eh sì esatto ma voglio dire non è che abbiamo avvertito che arrivavamo niente e effettivamente questa strada è rispettata questo spazio è rispettato grazie a una decisione politica quindi ecco questo è un grandissimo tema è venuto fuori anche il tema degli artigianati anche questo ecco come ci dicevamo poco anche a pranzo non è solo il gioco ma è il gioco per noi nel contesto culturale quindi collegato con le pratiche dell'alimentazione con gli artigianati tradizionali con la festa con il rito e quindi vedete che è una visione contestuale non è soltanto il gioco in sé è questo che ci interessa ma è vero anche che il riconoscimento come nel caso del tamburello all'interno di una rete diciamo nazionale sportiva aiuta anche esso a sostenere gli sforzi della comunità quindi c'è anche questo tema che è interessante il rapporto con le strutture diciamo che è un altro tema insomma importante sul quale riflettere io credo che dovremmo fare un programma di formazione con delle giornate tematiche in cui concretamente si decidono anche delle cose insieme alle nostre istituzioni e su questo vi do la parola penso che Giuseppe Paolo volevamo sentire qualche altro spunto rispetto appunto anche all'intervento prego qualcuno vuole avete già detto tante cose importanti è solo una cosa che mi sono dimenticato prima di dire che noi siamo iscritti anche al Coni e alla Figest e pagavano una tessera nella pandemia abbiamo pagato le tessere complete non ci hanno scontato niente e io la mia associazione la porto avanti con la mia prologo quando facciamo le fiebre al casoncello così che dividiamo gli utili sulle associazioni locali perché altrimenti non avremmo la possibilità di portarla avanti e è dal 2007 2008 che stiamo facendo questa cosa grazie al nostro comune e alle tessere che pagano gli associati però se io ricerco 15 euro loro la tessera 10 li do al Coni e alla Figier sapete cosa ci danno loro le magliette al campionato italiano e basta non ci danno neanche la medaglina o qualche cosa altro voglio ringraziare le istituzioni presenti per gli interventi che hanno fatto e spero che ci tengano almeno in considerazione grazie abbiamo qualche altro intervento sui temi rilevanti che sono sabbiochiese Roberto della della bala palla elastica no più che altro che sul discorso della famosa via di Verona bisognerebbe capire se è una cosa attuabile magari anche per noi ma più che altro davvero è perché per poter portare avanti il discorso anche di di convincere dei bambini nuovi a giocare così sarebbe utile avere un posto magari a noi non servirebbe tutto l'anno a me basterebbe che mi dessero la possibilità non so nel mese di luglio agosto di avere un vicolo una via per poter far giocare i bambini perché alla fine il gioco della bala è un gioco non è uno sport un'associazione sportiva noi l'abbiamo tramutata un po' anche in uno sport andiamo in giro giriamo per l'Italia giochiamo ma per coinvolgere i bambini bisogna farli giocare e non posso portarli nello sferisterio nella zona industriale dove bisogna aspettare il turno dopo il calcio dopo il tennis sotto il sole coccente ci vuole un vicolo una via una piazza perché il gioco della bala si è sempre giocato nelle piazze e nelle strade se no stiamo parlando di altro quindi a me quel tema qua quel discorso qua di avere di essere tutelati per avere una via perché quando ero piccolo io andavo a giocare nella via e un giorno due tre arrivavano i vigili arrivavano i carabinieri poi ritornavi lì oggi non possiamo più non possiamo proprio più alla fine alla fine come io Alex e tutto il gruppo andiamo in un paese vicino dove si può giocare andiamo di qua giriamo per l'Italia non è un problema il problema è di riuscire a far giocare di nuovo nuovi giocatori bambini ragazzini perché il pomeriggio intanto che io sono al lavoro se ho una via dove i bambini possono giocare sorvegliati da qualcuno a turno la tradizione va avanti il gioco va avanti che ripeto non è proprio uno sport è più un gioco se vogliamo salvaguardare il gioco bisogna darci qualche strumento qualche arma in più perché negli ultimi anni è stato un peggioramento unico sotto questo aspetto poi per il resto ringrazio tutte le associazioni so che stiamo cominciando questo nuovo passo perché gli ultimi anni sono stati un po' in declino sotto l'aspetto delle regole e da riuscire a portare avanti la tradizione e il gioco ma sono cose sono problematiche che cambiano da paese a paese da regione a regione in realtà ognuno ha le sue noi siamo messi un po' male sotto questo aspetto e rischiamo che sia come avevo detto prima con l'orologio quando smettiamo di giocare noi muore il gioco della bala nella Valsabio grazie sì questa cosa della strada del gioco è importantissima è molto importante anche tener conto del processo come si è arrivati a Verona attraverso un'iniziativa dal basso che poi è stata fortificata dalla presenza dell'associazione giochi antichi di Toccati e quindi la richiesta ha trovato ascolto io credo che potrebbe essere una iniziativa diffusa diciamo e proposta anche come misura di salvaguardia per noi in Lombardia quella di avere delle strade del gioco nei paesi ma richiede veramente un lavoro importante per non essere calata dall'alto ma per essere veramente l'espressione della comunità la scelta del luogo il modo in cui si negoziano anche le condizioni d'uso di questo spazio cioè c'è tutto un lavoro da fare su questo ed è molto importante che ognuno lo gestisca diciamo in accompagnamento a questo tavolo perché credo che da questa riunione uscirà un tavolo permanente sulla salvaguardia dei giochi sport tradizionali in regione Lombardia ma che ognuno abbia poi e questo sarà anche uno dei temi importanti cioè come ci si arriva e com'è importante che tutti i livelli vengono coinvolti dal basso non che arrivi da magari l'ente regionale una decisione dall'alto ma che sia proprio un incontro dei diversi livelli con un vostro dialogo forte con le vostre istituzioni locali che è fondamentale come farlo come attivare questi percorsi virtuosi probabilmente la testimonianza di Paolo e Giuseppe sulla strada del gioco di Verona di Borgo Venezia può aiutare insomma abbiamo forse già detto però non vorrei concentrarmi esclusivamente su questa operazione no dico solo a Roberto che è stato è stata un'operazione molto semplice nel momento in cui le amministrazioni si sono messe a disposizione i cittadini hanno coinvolto la circoscrizione insieme con la prima hanno individuato lo spazio lo spazio che non è ad esclusiva del gioco perché è un'area mercatale rimane area mercatale ma semplicemente viene liberata dalle auto i giorni quando non c'è il mercato la strada rimane libera a disposizione di qualsiasi tipo di gioco non nello specifico e dico solo che una volta che la circoscrizione ha accettato ha consultato il settore traffico della città di Verona ed è stato tutto relativamente semplice è anche una situazione ideale direi perché lo spazio è ampio le case ci sono ma non sono nell'immediato vicinanza della casa cioè della strada quindi i cittadini non hanno protestato insomma lì l'individuazione dello spazio è essenziale questo è poi il fatto che c'è Toccatì a Verona quindi c'è già un comune molto sensibilizzato a tutto questo questo è anche allora siccome ogni caso è diverso sicuramente in alcuni contesti come quello di Sabbio Chiese che abbiamo conosciuto insomma in questo periodo a distanza ma in maniera anche abbastanza approfondita attraverso i nostri incontri probabilmente lì c'è bisogno di un accompagnamento di tipo diverso cioè questo è il senso della rete cioè il fatto di portare Verona portare Milano portare le istituzioni a dialogare fra di loro per cercare insieme le soluzioni più adatte ad ogni caso che naturalmente ogni caso poi è diverso se è un'operazione che viene individuata come calata dall'alto allora qui abbiamo un assessore del comune quindi si deve partire da lì ma infatti una delle cose infatti importanti è avere anche le istituzioni locali questa è una cosa sulla quale abbiamo molto lavorato che non siano solo le comunità ma quando è possibile sempre Agostino lo sa bene ogni volta lo ripetiamo anche le istituzioni proprio per lavorare in funzione della salvaguardia cioè obiettivi molto concreti io direi che scusate però il nostro problema è contrario rispetto a Veruna nel senso che non sono i cittadini che vogliono che lì si giochi lì si è giocato per 50 60 anni e adesso da qualche anno due o tre cittadini che hanno l'abitazione lì sono riusciti a livello giuridico a fermare il gioco o a fare in modo che si possa giocare solo tre giorni ma su questo se posso ti aiuto nella diciamo nella descrizione che ha fatto Paolo in realtà lì non è stata la cittadinanza è stato un gruppo piccolo di cittadini piccolissimo ok del quartiere e non aveva il quartiere con sé perché tanti anziani disturbava il fatto di mettere lì delle aree gioco cioè che i bambini potessero giocare in quest'area quindi diciamo che da questo punto di vista l'esempio non è molto distante ok non è molto distante nel senso che c'è una difficoltà di accettazione di una parte della comunità all'agire di un'altra parte della comunità e quello che abbiamo visto che ha funzionato sono stati i soggetti che tutti si sono messi intorno a un tavolo cioè la rappresentanza dell'amministrazione locale in questo caso una comune come Verona ha le circoscrizioni da voi da un certo punto di vista è più semplice perché essendo un piccolo comune dialogate più direttamente anche col sindaco e con gli assessori e i promotori e in questo caso potrebbe essere qui il terreno fecondo per caso per caso perché i racconti che avete fatto oggi penso agli amici della Ruzzola diciamo piuttosto che alla pavia alla Lomellina e a tutte le realtà che siete ognuno ha una specificità però se insieme alla regione per la prima volta guardate noi insomma in vent'anni di che giriamo non c'è mai stata un'occasione così insomma a casa nostra tra virgolette cioè in regione Veneto non siamo ancora arrivati a questa situazione non abbiamo una ragione in dialogo con noi e forse potremmo avere qualche leva in più perché da noi insomma il Tocatì comunque a livello regionale è uno dei grandi eventi e quindi qui partendo insieme a fianco alle istituzioni questo è un elemento importante non di fronte alle istituzioni a fianco alle istituzioni perché le istituzioni sono fatte di persone a volte che non capiscono a volte che agiscono come ci ha raccontato lui non nella maniera forse più trasparente e corretta ma tante volte e l'abbiamo visto anche questa mattina con la presenza della regione in dialogo e quindi insieme senza fermarci alle parole cioè calandole nelle singole realtà costruire insieme a loro 12 laboratori sperimentali 12 laboratori sperimentali che agiscono sulle cose sulle norme perché alla fine bisogna avere degli elementi concreti e la norma può passare solo se tutte le istituzioni e anche un pezzo della cittadinanza riconosce in quell'agire di ogni singola comunità un patrimonio non avremo mai e questa epoca ce lo sta confermando unanimità su tutto cioè è il momento della divisione su tutto quindi figuriamoci se noi possiamo avere unanimità anche su azioni che vanno a disturbare questo piuttosto che quell'altro quindi non ci dobbiamo preoccupare di questo la concertazione fa parte della voglio dire della vita di tutti noi e il fatto che costruiamo un tavolo e lo rendiamo formale quindi anche arrivando ad esperienze come hanno detto loro quella dei fuochi secondo me è esemplare cioè quando c'è una volontà politica barra tecnica perché loro sono dei tecnici sono dei professionisti dentro insieme alla comunità si trovano le soluzioni è difficile è complicato bisogna avere pazienza però le cose si fanno e qui dentro penso che sia diciamo lo spazio più congeniale tant'è che qua dentro c'è un vice sindaco degli assessori degli ex assessori cioè persone che sono state dentro le istituzioni anche questo è importante perché la cultura delle istituzioni sapere come ragionano come si pensa a governare una comunità non è cosa di poco conto cioè non è che chi sta dall'altra parte è sempre un nemico non è così cioè anche lui deve affrontare tutti i giorni tanti problemi quindi l'invito secondo me è partire come diceva appunto la Valentina e su questo se non ci sono altri interventi perché ci chiedo scusa ma poi loro chiedono alle quattro di lasciare la sala chiederei alla professoressa Obertazzi se dagli stimoli che ha ricevuto dalla sala ha qualche diciamo contributo di chiusura su questo Benedetta ci hai sentito? sì Vale io sento soltanto te gli altri li sento veramente male quindi ho sentito soltanto chiederei a Obertazzi e poi non ha sentito bene appunto allora ti dicevo che Giuseppe siccome appunto gli input che sono venuti dalla sala sono molto concreti e ne esce un quadro di tavolo permanente sulla salvaguardia dei giochi sport tradizionali in cui le istituzioni affiancano le comunità in uno sforzo proprio anche di analisi di casi concreti per riuscire a trovare le risposte Giuseppe si chiedeva se potevi dare anche un tuo contributo diciamo di riflessione di chiusura perché siamo comunque in chiusura con i tempi quindi se vuoi darci un tuo un tuo input sì allora sì innanzitutto volevo chiudere dicendo a tutti complimenti complimenti per tutti gli sforzi per i lavori che state facendo tutti quanti veramente tutti quanti dalle istituzioni all'associazione alle comunità ai facilitatori che lavorano perché questo è il modo giusto per promuovere e proteggere soprattutto proteggere il patrimonio in vista di una sostenibilità sociale ambientale ed anche economica perché no anche economica per continuare a renderlo vitale e trasmissibile altrimenti rimarrà soltanto sui libri di carta e forse in questo archivio in questo inventario però non deve essere così l'inventario deve essere proprio un qualcosa che consente facilita la trasmissione e la vitalità della pratica quello che sta succedendo perché questo inventario è bellissimo in modo protetto in modo protetto e sostenibile soprattutto e quindi io credo che questo sia un esempio come diceva Valentina come diceva anche io ho studiato in tutto il mondo d'altronde tenere sabato pomeriggio così tanta gente vuol dire che c'è passione come dice Giuseppe e anche Paolo e Valentina sempre qua c'è passione e ci deve essere proprio perché è la passione poi che consente di andare avanti esploriamo anche delle strade che possano avvicinare le pratiche di tutte queste comunità ai giovani questo è importantissimo sarebbe bello vedere giovani anche con noi e quindi la digitalizzazione è essenziale anche questo è un periodo di pandemia però a maggior ragione la digitalizzazione deve avvenire in modo protetto altrimenti è davvero regalare ad altri cose che non devono essere regalate perché altrimenti non ci sarà sostenibilità invece la sostenibilità è necessaria per la vitalità della pratica e della trasmissione quindi capacity building formazione in modo che tutti sappiano che cosa vuol dire anche digitalizzare che cosa vuol dire andare in contesti online in maniera non protetta ecco questo è quello che posso dire io poi non so vale che cos'altro comunque noi ci siamo e per i toccati ci saremo sempre ecco e le comunità di Aga grazie io penso che questo tema del tavolo permanente è un po' una prospettiva anche per l'inventario nel senso avere poi delle reti tematiche che si organizzano per elaborare misure di salvaguardia sostenibili che vadano a veramente sostenere le comunità di pratica credo che sia dalle parole dell'assessore che abbiamo letto in apertura la prospettiva sulla quale lavorare considerando regione Lombardia come il cantiere sperimentale perché come avete sentito in Veneto stiamo costruendo una rete regionale di comunità ma non siamo a questo punto proprio perché manca l'inventario non c'è e quindi non abbiamo potuto fare il lavoro che abbiamo fatto in Lombardia in questi anni questo tengo a sottolinearlo perché poi ho portato il caso Agostino lo sa dell'inventario fatto insomma grazie al progetto in gioco anche all'UNESCO alle isole Mauritius ho portato un powerpoint che è stato condiviso con tutti i ricercatori presenti al forum delle ONG accreditate e si è creato un gruppo di lavoro ricerca che è collegato a un gruppo di lavoro sull'etica della ricerca e quindi vedete che siamo come dire stiamo veramente viaggiando ecco con questi nostri lavori e io credo che questo tavolo sia necessario abbiamo sentito i problemi del ruzzolone che sono molto concreti già due anni fa prima della pandemia avevamo ricevuto telefonate da loro su come poter fare questo è un esempio meraviglioso di una comunità di emigrati che oggi costituiscono il vivo tessuto culturale della società lombarda contemporanea che grazie al gioco ha mantenuto vivo il legame con i paesi d'origine e portato a Milano una cultura perché l'abbiamo visto abbiamo fatto merenda insieme con dei prodotti meravigliosi nel parco tre anni fa un momento insomma che ricordiamo tutti con commozione perché dentro un parco urbano una pratica rurale che viene dalle transumanze che viene dalle nostre culture pastorali più antiche quindi un momento davvero indimenticabile così come con tutte le altre comunità con cui abbiamo avuto la fortuna anche come dire mi ricordo per esempio a Marmirolo la difficoltà di questi anziani che non sapevano bene come fare a guardare al futuro e adesso invece oggi in sala abbiamo dei giovani insomma di una generazione che sicuramente quindi ecco tutto questo ci dà buone buone speranze prospettive di lavoro insieme consideriamo che stiamo aprendo una strada nuova questo significa anche con tutte le difficoltà i dubbi le fragilità che ognuno di noi dentro e fuori l'istituzione conosce però il fatto di essere qui insieme è un grande segno e forse sarebbe bello che ognuno prima di salutarsi desse una sua piccola testimonianza sulla giornata di oggi e poi dopo ci salutiamo grazie 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 dell'invito soprattutto e ringraziamo se riusciamo a ottenere qualcosa per svolgere la nostra attività sportiva saremmo molto contenti comunque grazie lo stesso per l'impegno che avete messo e passo la linea grazie e basta nel senso è stato per noi una bellissima prima giornata siamo convinti che l'impronta c'è e che si possa camminare bene grazie io ringrazio più che altro non solo per oggi ma il fatto di aver scoperto che noi eravamo abituati a giocare a bala vai in piazza giochi ed è finita lì sei quasi in disagio o se crei disturbo invece ho scoperto negli ultimi anni nell'ultimo periodo che è una cosa che è apprezzata e che la mia è più una responsabilità nel portare avanti la tradizione il gioco e trasmettere tutto quello che abbiamo imparato dai nostri quindi grazie perché questo vostro impegno tutto questo lavoro è tanta roba e mi ha fatto un po' cambiare e ci ha fatto un po' cambiare idea sul gioco che non è solo un gioco è molto di più grazie io non è la prima volta che partecipo a questi incontri già qualche anno che ho avuto la fortuna di conoscere Valentina e conoscere questo mondo che gira attorno ai giochi tradizionali è sempre una bella cosa essere presente in queste iniziative perché ti metti a confronto con gli altri e senti altre realtà altre giochi altre attività diciamo la linea che ci unisce a tutti è che ci fa ritornare tutti i bambini perché questi qui sono i giochi dei bambini sono i giochi dei giovani eppur diventando diversamente giovani rimaniamo con la voglia di quella dei ragazzini cioè di divertirci e finché riusciamo a divertirci va bene cerchiamo di farlo in sicurezza cerchiamo di farlo proteggendo le nostre tradizioni e spero che ci siano altre giornate come questa la mia disponibilità la disponibilità della nostra associazione c'è su tutte le iniziative che vogliate continuare a fare grazie l'ultimo no ma le conclusioni le ho già fatte questa mattina e quindi è bello perché abbiamo tutti delle radici è questo un po' il concetto che ho detto questa mattina chi più chi meno legate alla storia legate al territorio ma radici della stessa pianta che è questa comunità e siamo tutti parte di AGA tutti abbiamo qualcosa da portare ma la ricchezza è che tutti ci mettiamo del nostro e possiamo fare tanto questo io sono fortemente convinto nelle nostre nelle nostre piccole piccole realtà piccoli paesi piccole zone del territorio della Lombardia ma non solo quindi assieme possiamo fare tanto fare tanto anche per arrivare a tutelarci reciprocamente perché questo quindi la ricchezza di uno diventa la ricchezza dell'altro condividendo volevo dire ancora due cose il signore ha detto siamo diventati bambini e giovani ma il nostro scopo di tutte le nostre associazioni qui oggi è quello di coinvolgere i giovani nei nostri progetti noi ci la mettiamo tutta ma vedo che non ci seguono molto i giovani io vedo che nella nostra pianura ce ne sono pochi che ci seguono mentre nelle valli troviamo tanti giovani anche quando siamo andati al campionato italiano in Val Pellice c'erano tantissimi giovani che giocavano a morra che magari noi non pensavamo neanche di trovare li abbiamo trovati per caso diciamo ma io dico saremo noi che sbagliamo o saranno i giovani che sbagliano perché a volte mi viene di fare delle riflessioni perché anche quando vado in chiesa mi guardo indietro più giovani di me in chiesa non vedo più nessuno qua dico dove va a finire la nostra cultura dove stiamo andando a finire noi dobbiamo coinvolgerli molto i giovani cercare di starli vicino perché come ha detto prima giocano col telefonino non hanno più dialogo neanche con i genitori con nessuno cosa pretendiamo dalla vita di quei giovani lì dopo grazie grazie mille anche di quest'ultima testimonianza come quella di Damiano che da Fossa Caprara ci fa sentire davvero una grande famiglia che è molto forte delle esperienze di ognuno e sicuramente queste giornate tematiche che dovremmo progettare riguarderanno anche il lavoro con le scuole perché sappiamo che i giovani si possono coinvolgere in tanti modi sicuramente nei paesi con le strade che tornano ad essere luoghi di gioco io ci credo tantissimo a questo sarà che ho giocato tanto in strada ma veramente credo che sia uno degli aspetti fondamentali e non in posti separati dalla comunità come appunto i campi non solo per lo meno e poi le scuole perché oggi molte esperienze che i ragazzi riescono a fare grazie alla scuola restano è un po' diventato diciamo un luogo chiave della trasmissione la scuola nella società tradizionale lo era sicuramente di più la famiglia il paese la comunità oggi attraverso la scuola possiamo fare tantissimo l'UNESCO sta facendo un grosso lavoro con le scuole proprio per darci strumenti e far entrare il patrimonio materiale a scuola su questo anche abbiamo una facilitatrice che è già coinvolta in altri progetti di regione di Lombardia come un progetto dedicato alla governance perché quello che stiamo facendo poi è governo effettivamente delle tradizioni e lì stanno veramente questa facilitatrice sta facendo un grosso lavoro proprio per darci gli strumenti per lavorare bene con gli insegnanti e con i ragazzi sono convinta in Veneto ci stiamo lavorando siamo pochi tenaci e a volte facciamo un po' fatica a fare tutto quello che vorremmo nei tempi dell'urgenza che sentiamo però la scuola sarà uno dei dei fronti sui quali lavorare in futuro Paolo allora io prendo la parola per chiudere ovviamente ringrazio le istituzioni della regione Lombardia per la presenza e per l'incoraggiamento dato ringrazio tutti quanti voi non nego che il lavoro che stiamo facendo sia molto faticoso e a volte arrivi in determinati momenti che dici non ce la faccio non ce la faccio questi momenti momenti come quelli che abbiamo vissuto oggi sono quelli che danno l'energia e la forza per andare avanti quindi grazie a tutti e ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti